Il termine di questo non monetary, cioè tutto quello che è correlato al ritorno nei confronti delle persone che lavorano in un'organizzazione è stato studiato. Ha sicuramente ed è stato anche misurato un impatto in termini di profittabilità, ma qui siamo nel pubblico e sarebbe estremamente riduttivo utilizzare lo strumento monetario. Noi non abbiamo la bot online, non abbiamo degli azionisti che dobbiamo remunerare, non abbiamo una collettività che dobbiamo servire e quindi il grado anche di sofisticatezza con cui fare queste valutazioni è decisamente più alto e ha anche degli aspetti di natura sociale, di natura appunto di dialogo con la collettività, di servizio al cittadino, che ovviamente nel campo del privato sono sicuramente, vengono molto molto dietro quelli che sono le ragioni d'essere appunto di un'iniziativa privata che è appunto il ritorno economico. Queste erano un po' di considerazioni che volevo condividere con tutti voi, anche per fare un ragionamento, mi collego con quanto è stato detto fino adesso, sull'importanza di una giornata come quella di oggi. Noi oggi stiamo parlando di qualcosa che ha un forte impatto innovativo. Non è assolutamente scontato le cose che ascolteremo oggi e mi rende anche un minimo orgoglioso come Formez di contribuire a questo, perché l'innovazione a volte ha bisogno di avere dei… è un po' impalpabile, ci sono varie cose nuove, varie sperimentazioni, varie esperienze che vengono fatte. A volte serve un punto di aggregazione, un momento dove possono precipitare, possono confrontarsi, possono avere quella massa critica che porta ad avere in mente un modello, o l'inizio di un modello, o anche banalmente solo dei raffronti, dei confronti, in modo che poi i decisori che in ogni organizzazione saranno proposti a prendersi questa responsabilità hanno, abbiano a loro disposizione dei termini di riferimento con cui confrontarsi e da utilizzare. Questa è un po', se volete, un po' la ragione d'essere di Formez. Ogni tanto noi lavoriamo a vari livelli, quindi a livello trasversale, da livello nazionale fino all'ultimo comune italiano, e spaziando su diverse tematiche. Siamo, se volete, un po' un incrocio, tra un grillo parlante e un idraulico. Sì, a volte abbiamo delle grandi idee su quello che potrebbe funzionare, però abbiamo anche un grosso coinvolgimento nell'operatività. Quindi siamo solo contenti e felici di poter aiutare anche tutti voi, persone che hanno la responsabilità di prendere decisioni su come vengono gestite le risorse umane all'interno delle pubbliche amministrazioni, cercando di darvi il massimo dell'aiuto e degli strumenti a disposizione per poter procedere. La giornata sarà conclusa dalla mia collega Claudia Migliore, che farà il punto della situazione e entrerà poi nel merito di quelle che sono le leve organizzative e che possono attivare un certo tipo di reazione. L'ultima cosa che volevo condividere era che, insomma, una cosa che penso sia importante è il practice what you preach. Cioè, se pensi che una cosa sia giusta, devi iniziare a utilizzarla in casa tua. Ecco, noi ad esempio abbiamo... stiamo sperimentando anche noi, perché è un campo tutto sommato abbastanza nuovo. Da brava comunità professionale abbiamo deciso di dare spazio ai nostri colleghi per... attivando una presenza sistematica sui canali social, in particolare su LinkedIn. Cosa gli stiamo chiedendo ai nostri colleghi? Gli stiamo chiedendo di scrivere quello che pensano. Cioè, fanno un progetto, hanno una sperimentazione, di pubblicare un contributo direttamente. Loro firmandolo e, vi assicuro, con una moderazione da parte dell'Istituto estremamente leggera. Cioè, è più uno stimolo a pubblicare che un controllo di che cosa esattamente viene pubblicato. E vediamo che ha un grosso ritorno. Cioè, fa sì che le persone si rendano conto banalmente dell'importanza di quello che fanno nella quotidianità, cosa che non è assolutamente scontato. partecipano ad un dibattito che probabilmente non si immaginavano nemmeno di poter condizionare. Invece hanno delle cose estremamente interessanti. E hanno anche, se volete, sentono proprio su di sé la fiducia che l'Istituto gli dà, dandogli fondamentalmente carta bianca. Ecco, questa era una piccola esperienza che volevo condividere con tutti voi. Mi sono dilungato, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie, Presidente. Allora, ecco, non vi parlerò di Naging né di scienze comportamentali, quali strumenti di innovazione, di valorizzazione della performance individuale, perché il tavolo è zeppo di interventi migliori del mio. Io invece mi interessava contestualizzare l'incontro di oggi nell'ambito del progetto di cui sono responsabile. Un progetto appunto di partecipazione che favorisce la partecipazione dei cittadini, degli utenti, degli stakeholder ai processi di misurazione e valutazione della performance, supportando il Dipartimento stesso nella verifica e nelle indicazioni rispetto alla applicabilità delle linee guida 4 e 5. È un progetto avviato da due o tre anni. È un progetto, diciamo, strutturato in due linee, in due anime, poi alla fine un'anima di strumenti e di sperimentazione di modelli di coinvolgimenti dove il focus è la performance organizzativa, dall'altra parte sperimentazione di modelli e di strumenti innovativi e quindi di scienze comportamentali per la valorizzazione della performance individuale. È un progetto articolato, suddiviso in linee, articolato in attività e risultati attesi, dove per la parte di performance organizzativa sinteticamente le attività hanno come oggetto la valutazione partecipativa e la generazione di valore pubblico. Sulla valutazione partecipativa e quindi l'analisi dell'esperienza, la sperimentazione della metodologia, ci ha permesso anche con dei colleghi e delle amministrazioni rappresentate oggi in sala di avviare un percorso di valutazione proprio per favorire la partecipazione integrandola nei processi decisionali, quindi andando oltre la qualità percepita del servizio ma cercando appunto di ridurre anche l'autoreferenzialità dei sistemi di performance management. L'altro oggetto appunto della performance organizzativa è stato il valore pubblico, la generazione di valore pubblico, quindi qui il progetto è stato un po' rivisto e è stato in grado di intercettare quelle che erano le novità legislative introdotte appunto dal DL80 e dalle successive modificazioni. Un'attività appunto di laboratoriale con delle regioni, un'attività che ha, diciamo, che prevedeva anche la valutazione degli esiti e della disseminazione, un'attività nelle sue pieghe, nelle sue azioni di sviluppo organizzativo che ha previsto e prevede appunto l'autovalutazione attraverso il modello CAF, proprio per avere una visione ecco olistica e integrata dello strumento del PIAO, quindi uno strumento appunto di integrazione. L'altra anima è quella della performance individuale, anche qui azioni di individuazione di un panel di amministrazioni, analisi desk e definizioni di piani di lavoro, fino alla sperimentazione della metodologia, arrivando quindi a una valutazione degli esiti e di disseminazione. Diciamo anche qui l'obiettivo è stato quello di favorire degli strumenti capaci e in grado di motivazione comportamentale rispetto alla valorizzazione della performance individuale. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati e cosa abbiamo raggiunto? Rispetto alla performance organizzativa e alla valutazione partecipativa, abbiamo messo in campo delle azioni appunto di assistenza, di accompagnamento, di analisi, di diagnosi organizzative, fino alla, e di laboratori di approfondimento, fino diciamo all'elaborazione di report tecnici sugli esiti della sperimentazione e arrivando quindi a una proposta tecnica di revisione delle linee guida sulla valutazione appunto partecipativa in base agli esiti della sperimentazione, della sperimentazione evidenziandone i contenuti e diciamo le risultanze di questo processo di evidence-based che abbiamo realizzato. Sul valore pubblico abbiamo presentato qualche settimana fa qualche settimana fa gli esiti di questa sperimentazione, una sperimentazione, un accompagnamento, un'azione di accompagnamento, di formazione massiva attraverso dei laboratori one to one con le amministrazioni, di simulazione guidata dei processi di pianificazione strategica del valore pubblico e di programmazione operativa delle leve e delle condizioni abilitanti per la sua creazione e per la sua protezione. È stata diciamo un'attività rivolta in fase di sperimentazione a cinque regioni e in fase di disseminazione a dieci regioni più due province autonome. Anche qui abbiamo restituito qualche giorno fa i risultati e anche i criteri di qualità del Piau rispetto alla struttura del documento, rispetto all'individuazione dei soggetti coinvolti e rispetto alla definizione di un cronoprogramma degli attività nonché un documento metodologico di domande e risposte e quindi dei quesiti emersi nel corso di questo laboratorio. Rispetto alle performance individuali, e mi avvio a chiudere, anche qui abbiamo individuato, abbiamo realizzato dei framework di competenza dell'ente e di sperimentazioni di colloquio di patto proprio con l'obiettivo e avendo raggiunto poi dei risultati rispetto alla definizione di dizionari di competenze come strumento appunto di valutazione e condiviso con le amministrazioni anche qui vedo qualche amministrazione presente. Sul nudging ho riportato sulle slide qualcosina ma non vi spoilerò nulla e cedo la parola quindi al professor Siboni se può collegarsi. Grazie. Professor Siboni? Sì? Is this for me to speak now? Ok, l's go. Ok, sorry, I couldn't understand any of what was said before so I hope English is ok for everyone. If not, I hope that someone is translating. Thank you very much for inviting me. I was invited to present briefly for about 30 minutes and then to answer your questions for a few more minutes, if that's okay. If that is still okay, given that we seem to be a little bit behind schedule, can you please tell me if this is still the plan? Yes, yes, Professor. Okay, very good. In that case, let me start by sharing my screen and showing you some slides to illustrate what I'm going to be talking about. When auditing the quality of judgments in organizations, I will argue here that we need to be attentive to two different types of error, two different flaws in judgment. One is bias, which I think you have heard quite a bit about, and the other is noise. And the two books that you see here in their Italian translations are two books that I have authored and co-authored with two eminent co-authors. On the first one, on biases, how to avoid the terrible mistakes that you commit because of biases, and the other about how to avoid a defect in human reasoning, as you can see here, which is the book about noise. So without trying to give you a direct explanation, let me start with perhaps an example, which is not from the public sector, but from a world that you will all be familiar with. Suppose that you are in an insurance company, and the insurance company has to set the price of the insurance policies itself. That is the business of underwriters. Underwriters are the people who evaluate how much a risk should cost to insure, and therefore they are experts. They have to make an expert judgment about what the price of an insurance policy should be. Now, in a big insurance company, there isn't just one underwriter. There are lots of underwriters. And which one ends up giving you a quote is essentially a matter of chance. It might be underwriter A or it might be underwriter B just because underwriter A is too busy or is on holidays or is doing something else. So you could get underwriter A or you could get underwriter B. This is essentially a matter of chance. This assumes, therefore, that underwriter A and underwriter B would give you more or less the same quote. Of course, no one expects that they would give you exactly the same quote because it's a matter of judgment. When we say that something is a matter of judgment, we expect that some reasonable moderate amount of disagreement is OK. And in fact, when we ask people how much of a difference they expect here between two randomly chosen underwriters, they typically tell us that 10 percent would be a good estimate. Here you got the answers of 50 insurance professionals. You can see that about 47 percent of them say less than 10 percent. The rest say more than 10 percent. Here we've asked the general public, so the customers of the insurance company. And you can see that it's just the same. 51 percent say less than 10 percent and the rest, 49 percent, say more than 10 percent. So basically 10 percent is the answer that everybody seems to agree is a reasonable amount of disagreement. Now, when we actually did the experiment, when we did a noise audit, as we call it, where we measured how much difference there actually is between two randomly chosen underwriters in the same company, giving a quote for the same request for the same client to ensure the same risk, the median difference that we found between two underwriters was not 10 percent, as everybody seems to expect. It was 55 percent. In other words, the difference between two experts making the same judgment is not zero. And it shouldn't be zero because it's a judgment, but it's much, much larger than what just about everybody believes. And that, in a nutshell, is the problem of noise to contrast noise with bias. We need to realize that wherever there is judgment, there is going to be noise. That's a given. And often, but not necessarily, there will be bias, too. Let's look at some examples of bias. We all know, for instance, about overconfidence. We know that people will tend to overestimate themselves. They will overestimate their skills. They will tend to be too optimistic about their future relative to other people. We know that people are prone to the planning fallacy. When they build something like the Sydney Opera House, they think it's going to take three years. It ends up taking 15. And this happens in every type of public works, as I'm sure you are well aware. We know that people are vulnerable to groupthink, to thinking like the herd, to falling for the belief that if other people are doing something, it must be right. That's how we end up with bubbles and financial crisis and so on. We know that people have preferences that are inconsistent over time. So when we put our hand in that bowl of peanuts, we are not thinking that the person we will be tomorrow morning, as we step on the scale, will wish that the person we are tonight had not put their hand in the bowl of peanuts. We know that people are prone to inertia, which leads them to not change the defaults in which they have been placed. All of these things can be exploited for bad, exploited for nefarious purposes. They can also be exploited for good purposes. Inertia can be a friend of nudging. I heard the word being used in your conversation earlier. So obviously, those biases can be used for bad or for good. They can also just be there for bad or for good. And they are essentially predictable mistakes. What defines those biases is that we basically know, statistically at least, that when people are making a prediction, they will tend to be overconfident, not underconfident. The planning fallacy will lead them to underestimate the time it takes to complete something. It will not lead them to overestimate it. Inertia will lead them to stick with the status quo. It will not lead them to roughly depart from the status quo. So basically, the direction of the mistake is known here. In other words, if you imagine that shooting in the bull's eye here is to be accurate, a bias is a predictable error. A bias is when all people tend to shoot in the same place, and that place is not the right place. Everybody is making the same mistake. So think again of the planning fallacy. If we're all making a forecast, on average, it's safe to predict that our forecast is going to be overoptimistic. Noise is different from that. Noise is not when everybody shoots in the same wrong place. It's when everybody shoots in different places. Now, that may be right on average, as you see here, or it may be wrong on average, in addition to being all over the place, in which case you could be noisy without bias. That's target C here. Or you could be noisy and biased at the same time. That's target B. Basically, wherever there is judgment, there is going to be noise. You are going to be looking either at C or D. If there is bias in addition to noise, you will be looking at something like D. If there is bias, if there is no bias in addition to noise, you will be looking at something like C. Let me give you a few real-life examples. This is the story of a noise audit done in the justice system in America. I just read yesterday another noise audit done in the civil court system in France. The results are very similar. When you ask two judges for the sentence that they would pass on the same crime, not on similar but different cases, on the same crime committed by the same defendant who's been sentenced by the same jury, based on the same facts, with the same circumstances, etc. On average, the difference between two judges looking at the same case is more than half of the sentence that is meted out. When the average sentence is seven years, for instance, two judges will differ by, on average, 3.8 years. That means that if you pick two judges in half of the cases, in half of the pairs of judges, the difference will be more than 3.8 years. That's the difference between five years and nine years. It's a big difference if you're going to be spending that time in prison. Here's a breakdown of how to think about the noise. There's three types of noise, which, of course, add up. The first one, if you think of the previous example, is that, on average, some judges are more severe than others. Let's take another judicial example to illustrate that. This is a study of asylum courts in the U.S. In the same courthouse in Miami, there are two judges. I'm not going to tell you their names. In fact, I don't know their names, but there are two different judges. One of them, and the defendants or the asylum seekers get assigned to them essentially randomly, one of them admits 88% of the asylum seekers. The other one admits 5% of the asylum seekers. Obviously, these judges have a very different bias, either in favor of granting asylum or against granting asylum. It's not hard to imagine that these two judges have different political preferences and are probably card-carrying members of the two opposite parties in the American system. But from the perspective of the individual who is going to be randomly assigned to one of these two judges or from the perspective of the judicial system as a whole, the fact that these very different individual biases of judges are left to chance means that there is a lot of noise in the system between one judge and the other. So that is what we call level noise. The second type of noise, that's level noise. The second type of noise is the fact that the same judge, if seeing the same case at two different times of the day or on two different days of the week, or maybe on a day when his favorite football team has lost the game as opposed to a day when his favorite football team has won the game, the judge will be in a different mood and will judge differently. This is the fact that from one occasion to the next, we do not judge identically. We call this occasion noise. For instance, when forensic experts look at fingerprints, in a lot of cases, the numbers vary by study, but in a lot of cases, they will give different judgments on the same fingerprints that they have looked at before. In about 10% of cases, according to most studies, they will give a different reading. They will say the first time, yes, it's a match. And the second time, no, I'm not sure it's a match, for instance, looking at exactly the same pair of fingerprints. I've given you the example of judges being more or less severe before, after events that put them in a good mood. You see some examples here. The same is true of doctors. I'll go quickly over this because you are probably familiar with it. All this, by the way, also applies to singular decisions, meaning decisions that are a very important one-of decisions. The same factors that impact our repeated decisions, like the decisions of judges or doctors, also impact singular decisions. So there is noise in those decisions as well. All of this boils down to the third type of noise, which is that each judge is different. Each person is different. We are all different people. Therefore, we will have different patterns of judgment. In other words, it's because we express our individuality that when we are making a judgment on behalf of an organization, we make different judgments. So that's basically the story of noise and the fact that noise is larger than we think, greater than we think. Of course, you may be wondering, why is that a problem? Is it a problem that we express our individuality? Is it a problem that we are all different? Usually we say it's not a problem. Usually we say it's a great thing that we're all different. Usually we say it's wonderful that we have diversity. And yes, it is wonderful for some things. But wherever accuracy matters, wherever we believe there is a correct answer, and we are trying to get close to that answer, noise is actually not diversity. Noise is error. Wherever accuracy matters, noise is costly. Diversity is not always good. Here's when it's good. When you are discussing a matter of taste, you prefer Verdi and I prefer Berlioz, well, that's fine. In fact, I would be wrong in that particular example. But still, you would be entitled to your judgment. I would be entitled to mine. When we are in a market and we're competing and we're taking different strategies, it's good that we disagree. When we're trying to be creative, to have new ideas, to diverge, it's good that we disagree. In those cases, disagreement is not noise. It is productive diversity. But whenever a judgment is at stake, diversity is error. If you go to one doctor because you feel bad and the doctor tells you, you have this disease and it's a terrible disease that needs to be treated very aggressively right now. And then you go to a second doctor and he says, no, it's nothing to worry about. Just go home and take two aspirin. You're not going to say that diversity is a great thing. You're not going to say, wonderful, they are being creative. What you're going to say is one of these two doctors, at least, maybe both, one of these two doctors is badly wrong. They can't both be right. Diversity cannot be a good thing. And the reason it cannot be a good thing here is because you believe there is a correct answer. As soon as you believe that there is a best possible answer, which is the case when you hire people, when you make judicial decisions, when you make medical decisions, when you make university admission decisions, when you make any professional judgment, essentially, you believe there is a correct answer. In fact, you believe it's yours. That's why you give it, and the fact that people disagree with you can only mean that they are wrong. So diversity is great for some things. Diversity of judgments is great for some things, but it's not great most of the time for most things. Most of the time, when there is noise, it is a component of error. And in fact, we should think of error as being the sum of bias and noise, or more mathematically accurately, as being the sum of the squares of bias and noise, so that both bias and noise contribute to error. Both bias and noise are enemies of accuracy. Both bias and noise are bad for fair judgments. They are bad for credible judgments. And most importantly, they are bad for accurate judgments. Noise, just like bias, is the enemy of fairness, the enemy of organizational credibility, and the enemy of accuracy. Noise creates error. It's very important to remember that, because again, we tend to sometimes hear people say, noise is not a problem because on average it cancels out. Noise is not a problem because diversity is good. But that is not true, at least not under the conditions that I have exposed briefly here. Now, what can we do about it? The good news is that both bias and noise can be measured and can be reduced. First, there is a sure way to eliminate noise, but you're not going to like it. And you may be right to not like it because it may add to bias. That way to eliminate noise is to eliminate judgment, to automate judgment, to replace human judgments with formulas, algorithms, machine learning, artificial intelligence, hard and fast rules, you name it. Anything that takes the judgment out of the equation. After all, wherever there is judgment, there is noise. Wherever there is no noise, there can only be no judgment. So you would naturally lead from there. This would naturally lead you to say we should eliminate human judgment by having machines. Unfortunately, as I'm sure you've all heard, there is a lot of worry that machine bias, as it's increasingly called, or algorithmic bias is going to be a concern here. And this is an entirely legitimate concern, which can and should and will be addressed. It's not an impossible concern to address, but it's a very real and serious concern, which should give us pause before we outsource human judgments to machines wholesale. So that's not a universal solution. A much better solution is, first of all, to measure noise. What every organization, in our view in this book, should do is perform noise audits, whereby an organization measures the accuracy of its judgments, even without knowing what the correct judgment would be. Suppose, for instance, that you are looking at judicial decisions. If you observe that one judge says three years and another one says seven years and the third one says nine years for exactly the same case, you know there is noise. Now, you don't know whether on average they are correct, meaning that the correct judgment could be six years because you don't know what the correct judgment is. That is, in fact, a very difficult judgment to make, but you don't need to know which one of them is right to know that if they disagree, that's a problem for the system. In other words, you don't need to know whether you are noisy and biased or just noisy to know that you are noisy. One way to think about this is if you think of the metaphor of the targets that I've used before. If you were looking at the back of the target, you wouldn't know where the bullseye is, and these two targets would look exactly the same. You would know in both cases that there is noise. You would know in both cases that this is bad. You wouldn't know if on average one group is correct and the other is not, or at least you wouldn't know which one is. But you would know that both have a noise problem. You can and you should measure noise even when you don't know what the accurate answer is. So that is what you do with a noise audit. That's an experiment where you ask multiple people to make the same judgment and you measure their degree of agreement. Then, in order to reduce noise, there's a number of things you can do. We call them decision hygiene. We basically call them decision hygiene because they're about preventing noise from affecting your decisions. They're a bit like washing your hands. You don't know exactly what germ or what virus or what bacterium you are taking away from your hands, but you just know that it's a good idea to wash your hands because it's good prevention. Likewise, there's a number of things you can do to prevent noise from contaminating your decisions. I'm going to give you three examples very quickly to illustrate how these things work out practically, and then we'll have some time for your questions and answers. First, you can aggregate the judgment of many people. If you take the average of the judgments of several people, you will be closer to the correct answer because noise is a random error, and if you average multiple random errors, they will tend to cancel out. But, and this is a very important but, the way to do this is not the way we think we are doing it. When we get in a room and we talk, when we get in a room and we have a discussion, which we think of as a way to muster the collective intelligence of the organization, we're actually amplifying noise, not reducing it, because there is a lot of social influence in a group like this. In other words, if you want multiple individual opinions to be independent from each other so that you can then aggregate them and average them, you need to manage that. You need to make sure that every person forms a view about the decision to be made without knowing what the other people in the room are thinking before they express themselves. So, typically, these people around the table here, before they talk, before they say what they think, would need to write down what they think so that they are not influencing one another, and then only to express what they think and discuss it. For an analogy that usually works, imagine that you have a lineup of suspects at the police station to catch the guy who committed a crime, and you tell all the witnesses, why don't you all go in there and agree between yourselves who is the guy who committed the crime? Of course, that would be a terrible way to do it. You know that you're supposed to show the suspects to every witness individually, and then only if they agree to conclude that they have probably identified the right person, you don't want them to influence one another. Oddly enough, when we're making a decision in the office, we are not applying the same rigorous method to make sure people remain independent. We should. Let's not influence one another before we have formed an opinion. Then let's talk. Let's be independent, then talk, then conclude. But first, independence. Second idea, structure your judgments. Break down your overall judgments into their component parts. That's what doctors do with scoring systems. You may have heard about the so-called APGAR score, which is a way of assessing whether a newborn is in good shape or not. Instead of making one big holistic decision, you grade the baby on five dimensions, each of them between zero and two points. If you get more than seven, you're fine. That's the way of having a lot less noise in the decision that you're making here, and you can apply this to a lot of things. Bryan Cranston, the actor of Breaking Bad, says that he has a grid like this to make a decision about which roles he's going to take. He has four criteria. He gives a numerical score to each of those things, and he decides based on them. Third basic idea, don't trust your intuition at the beginning of the process, and don't let exogenous information influence you. The man you see here is called Brendan Mayfield. He was accused of being a terrorist by the FBI because his fingerprints, which you see here, had been found on a piece of the bomb that was detonated in Madrid at the Atocha train station. The experts at the FBI had formally identified his fingerprints, but part of the reason they had identified his fingerprints was because he fit the bill. He was actually a lawyer defending Islamic terrorist suspects, and he had converted to Islam, and the guys who were looking at the fingerprints knew that. Now, when the Spanish fingerprints experts looked at the same fingerprints without knowing that, they said, no, the fingerprints don't match, and in fact, the fingerprints did not match. He had never set foot in Spain, and after a couple of weeks, he was given $2 million and an apology by the FBI because obviously there was no way he was a criminal, but they all somehow, the expert, had somehow been influenced by exogenous information that had added, in this case, a lot of bias and in general, some noise to judgment. That's not because the information was wrong. It was correct that he was an Islam convert and that he was defending Islamic terrorists, but even information that is correct, even information that is accurate, can be detrimental to the quality of your decision. So, make sure that you do not know more than you need to know when you're making a decision. That's a very hard thing to do. Again, it's for organizations to do, not for individuals. That's what you need to do to keep intuition for the end of the process. I have covered all of this very quickly, but it boils down to three very simple ideas. There's two ways to be wrong, bias and noise. They're everywhere. They are costly. Both of them are costly. We all know that bias is costly. We should also take care of the fact that noise is costly. Fortunately, they can be measured and reduced. That is the job of organizational leaders because that's something for organizations to take care of. We should care about bias and noise. Thank you very much for your attention. And if we still have a few minutes, which I think we do, I'd be delighted to answer any and all questions. Thank you. Thank you very much, Professor Siboni. Now we ask for some questions in order to reach our discussion. Davide, or qu'est-ce to you? Bye. Bye, Ricardo. Ah, okay. I, Olivier, very interesting speech, a question. I think there is an irreducible diversity that is very difficult to neutralize for epistemological reasons because it's a diversity that comes from uncertainty from one side and bounded knowledge from the other side. So I know that that is approximate, is opaque, is contradictory, and so on. And I am thinking in particular of medical sciences. Medical sciences, the diversity is structural because it is not a form, a precise science that may give the same outcome if the architectural choice is well-designed. And then another point is that your approach to structure decision reminds me a lot of the fast and frugal trees decision-making. Let me perhaps address the first point and then, if you don't mind, remind me of the second one because I will have forgotten by then. I think we should distinguish between two components, two things that make it difficult to make good decisions that are both important but different. One is uncertainty and the other is noise. Uncertainty is the fact that when a doctor is looking at an x-ray, there is, you know, it may be very difficult to know whether the tumor he's looking at is cancerous or not. It may be truly uncertain, right? And in some cases, it is more uncertain than others. In some cases, it is obvious and only a very bad doctor would miss it. In other cases, it is truly ambiguous and there is real uncertainty and it's very hard to know. So there is a continuum of uncertainty from situations where you know for sure and if you are doing the math, you should know and everybody should agree to situations that require some judgment but are fairly easy to, at the other extreme, situations that are truly ambiguous and very difficult for people to agree upon. Now, put that aside for a second. Regardless of which situation you're in, given the same facts and given having the same objectives and having the same goals for the decision that they're making and having had the same training, different professionals who are supposed to make the same judgment give you different judgments. That is more shocking when it's an easy judgment. It's less shocking when it's a difficult judgment, but it's equally problematic in both cases. And it's a very different idea from the idea of the difficulty of the judgment. Think of the uncertainty as the difficulty of getting the correct answer. Think of noise as the fact that people give you different answer whether that answer is correct or incorrect. Those are two different things conceptually and both of them make it difficult to make the right call. Does that make sense? Does that answer your first question? Yeah, thank you. Then your second question was about whether structuring a decision is a case of fast and frugal heuristics. You could call it that, absolutely. In fact, some of the fast and frugal heuristics, some of the most famous ones would be things like take the best where you would, in fact, run through the structure and stop as soon as you have a clear differentiation. Now, I'm not arguing for one particular heuristic over another here. I'm not arguing for take the best or for another one. What I'm suggesting instead is that you lay out the dimensions of your judgment as exhaustively as you can and you use that as a way to slow down your judgment as opposed, perhaps, philosophically, as opposed to the approach to fast and frugal heuristics, which, as the name implies, is fast. So the goal of the structuring here is not so much to have a fast decision, it's in fact to slow down the decision and to make sure that you account for all the dimensions of the decision before you come to a final overall judgment. But it has some similarities, of course, with any structuring, including the fast and frugal heuristics. Thank you very much for the year. I have a question, Professor Sibuni. Our target here is public administration. So I was wondering, did you find any relation, probably, yes, between noise and over-regulamentation? We have a problem in Italy of too much rules for everything. So then the noise can create a sort of organizational paralysis because you are in some way at risk of evaluation of the court that analyzes the quality of work of the public servants. So it could be an effect of fairness, lack of fairness, credibility, and paralysis Yes, absolutely. So there are two ways to think about this and they're a little bit opposite. The criticism that we hear the most is paradoxically the opposite of what you say. It's that if you try to combat noise, what you will end up doing, especially in a public administration, is create a lot of rules to try to limit the variability of judgment from one person to the other, from one functionary to another, from one region to another, et cetera, and that this will lead the entire system to bureaucracy, to being very slow, and ultimately to paralysis. And that is a concern that is entirely legitimate. And, you know, we are not actually saying that noise should be eliminated at all costs. What we're saying is you should find the right level of noise, and the right level of noise may not be zero, especially in a public system, because you do want to leave some freedom of judgment and interpretation to people who are making decisions. You do want to make sure that people have a chance of breaking through knots of arbitrary complexity and bureaucratic regulation. you do not want to over-regulate in the aim of eliminating noise completely. Some variability should be tolerated. The question is how much, right? So, at the other extreme, there is the problem that you're talking about here, which is that you have a lot of noise in the system, and that noise creates a lot of, if I understood your question well, creates a lot of recourse and a lot of appeal and a lot of complaints about the results of those decisions, which themselves are driving the system to paralysis. The fact that I had never heard this side of the objection, but it makes complete sense. And it goes to show that the correct response to noise in a public administration is not to accept any and all noise because it's a fact of life. It's also not to try to eliminate noise completely. It's to find the right balance on every type of decision between over-regulating to eliminate noise and under-regulating, resulting in a lot of noise that is unacceptable. And that's a hard balance to strike. We propose a number of rules in the book to think about it. They all start with a very simple idea. If you do not have a good way to measure noise, if you do not do noise audits to start with, you do not know what you are dealing with. You can't measure the cost of noise if you do not measure the noise and you can't decide how much it's worth to reduce the noise if you do not know the cost of noise and if you do not know how much noise there is. So it all starts with measuring how much noise there is. That's something that many administrations are reluctant to do because they think it's embarrassing, they think it exposes the variability of their judgments. for instance when I talk to judges they very often tell me yeah we know that we have a lot of variability in our decisions but we don't want to measure it. In fact in some countries it's explicitly prohibited to measure it because it's so embarrassing that it creates a loss of faith in the judicial system. Now I think it shouldn't be embarrassing, I think it's a problem that should be confronted and the sooner we measure a noise in our administrative and judicial decisions the better but of course I realize that some people think differently. Fantastic, thank you very much. Humility, okay, very good. Any other questions? Okay, thank you very much thank you very much Professor Sibboni for your insightful contribution. Thank you very much. Thank you so much. Merci Olivier. So my name is Chiara Varastani and I'm really pleased to be here so I wanted to start by thanking the organizers. Sorry? Ah, scusate, rifacciamo, posso parlare italiano? È tutta la giornata che sta facendo italiano, inglese, inglese, italiano. Dunque, mi chiamo Chiara Varastani e vengo dall'OXE, da Parigi che è l'organizzazione a cooperazione e sviluppo economico e dove sono capa di scienze comportamentali. Vorrei cominciare ringraziando gli organizzatori di questo evento e anche tutti gli altri relatori della giornata. Dunque, nel poco tempo che ho vorrei fare tre cose con il mio intervento. Il primo si tratta di dare un piccolo piccolo introduzione di cosa sono le scienze comportamentali applicate portando il discorso al settore pubblico perché il professor Siboni ci ha dato tanti esempi però molti anche del settore privato. La seconda cosa è che volevo dare qualche esempio pratico per farvi un po' capire il tipo di impatto e per ultimo voglio spiegarvi un po' quello che facciamo all'OXE. Allora, mi piace sempre cominciare sul perché, perché le scienze comportamentali nel settore pubblico e quando ci pensate la maggior parte delle sfide nel settore pubblico involvono in qualche modo il comportamento umano che sia dal pagare le tasse a andare a votare alle elezioni a quanta energia consumiamo e anche quello che ho sentito molti giorni da quando, molte volte da quando sono arrivata a Roma due giorni fa che si chiama burocrazia difensiva. Quindi l'ho introdotta ieri sera nelle slide. Tutto questo è legato al comportamento umano a come ci relazioniamo agli altri e questo non è a scoprarti l'acqua calda. La cosa fondamentale del perché è importante usare le scienze comportamentali è perché molto spesso anche se sappiamo che il comportamento umano è importante assumiamo un modello completamente non realistico del comportamento umano. Che cosa vuol dire? Forse molti di voi sono al corrente di questa teoria che è stata proposta per la prima volta da Daniel Kahneman che è stato Nobel per l'economia ci sono sostanzialmente due sistemi che contribuiscono ai nostri comportamenti un sistema veloce o sistema uno e un sistema più lento o sistema due. È una cosa molto intuitiva non esiste veramente nel cervello questa separazione però il nostro sistema uno è un sistema veloce che non usa tanta energia nel nostro cervello tipicamente è quello che si aziona quando vi chiedo di fare due per due non c'è bisogno di pensarci sapete che fa quattro il sistema due invece è più lento e costa molto al nostro cervello di usare questo tipo di sistema e per esempio se vi chiedo di fare 37 per 18 non so voi io ci devo pensare un po' di tempo e questi due sistemi esistono nel nostro modo di ragionare e passiamo alla slide successiva la cosa che vorrei farvi capire è che anche se sappiamo che la maggior parte delle volte ogni volta che possiamo usiamo il nostro sistema veloce per prendere decisioni perché è più pratico perché è più veloce l'amministrazione pubblica è spesso disegnata pensando che usiamo sempre il nostro sistema lento cosa fanno quindi le scienze comportamentali fanno le cose molto semplici facciamo esperimenti facciamo dei pilots come i nostri colleghi oggi ci spiegheranno e cerchiamo di capire come le persone veramente prendono le decisioni per poi fare un redesign dei servizi pubblici o anche dei processi di amministrazione pubblica ora qualche esempio per rendere la cosa un pochino più concreta oggi ho visto che avete intitolato l'evento nudging e quindi volevo darvi qualche esempio di nudge in pratica per esempio io ho lavorato ho cominciato la mia carriera nel servizio pubblico britannico che era la prima nudge unit e noi abbiamo fatto una serie di esperimenti che sono diventati un po' pioneristici su ridurre per esempio aumentare il numero di persone che pagano le tasse in tempo abbiamo scoperto che ridurre anche un solo step online aumenta incredibilmente il numero di persone che pagano le tasse online anche nel pagare le come si dice fines le multe questo è un altro studio fondamentale che è stato fatto ormai più di dieci anni fa e in un solo esperimento siamo riusciti a cambiare una lettera e a far guadagnare all'equivalente dell'amministrazione delle tasse inglese 200 milioni di pounds e direte come abbiamo fatto a fare una cosa di questo tipo abbiamo fatto una cosa semplicissima abbiamo aggiunto una singola frase abbiamo detto alle persone che erano in ritardo a pagare le tasse guardate che nove su dieci persone hanno già pagato le loro tasse questa è una cosa semplicissima sembra molto stupida però si chiama pressione sociale e questo ha fatto sì che molte più persone pagassero le tasse in tempo queste sono cose che sono state fatte riplicate in Guatemala dove stessa cosa 300 mila US dollars di 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 savings risparmio grazie e e ultimamente è stato anche rifatto in Indonesia per esempio dove hanno fatto lo stesso esperimento però su 11 milioni di di persone qui stiamo parlando veramente dell'inizio delle scienze comportamentali applicate però come diceva Pierluca all'inizio vi fa capire come dei piccoli cambiamenti in lettere che comunque sono già mandate alle persone possono far aumentare i guadagni e i ritorni per il servizio pubblico in maniera esponenziale è stato ovviamente applicato molto anche a livello territoriale quindi non parliamo soltanto di esempi a livello di stato centrale ma anche a livello territoriale vogliamo anche parlarvi di un'altra cosa che è chiamato il fratello cattivo del nudge che si chiama sludge e credo che sia qualcosa su cui il professor Viale dopo svilupperà un pochino che cos'è lo sludge lo sludge partiamo dal nudge il nudge sono come vi abbiamo spiegato dei piccoli miglioramenti all'architettura delle scelte che fanno sì che le persone che sia più facile per persone fare quello che vogliono veramente fare lo sludge invece è un po' al contrario sono del attrito si può dire attrito è dell'attrito che fa sì che diventa molto più difficile fare quello che vogliono fare e che può essere dal richiedere un passaporto da registrare un nuovo bambino che arriva in famiglia da volersi tutto quello che è legato ai servizi pubblici che rende la nostra vita difficile dunque c'è stato un libro scritto da Castor Stein che raccomando di leggere che si chiama sludge e ovviamente questo tipo di frizione è qualcosa che è usato moltissimo nel settore privato per aumentare ovviamente i profitti quindi pensate a quando fanno sì che è difficile per esempio togliere un abbonamento a una rivista che non usate più oppure a un'assicurazione che magari vi sfordate di avere un'assicurazione per pagare qualcosa e automaticamente vi addebitano la cosa dopo un anno io ne ho un sacco e quindi queste sono cose che sono usate molto nel settore privato ma noi non parliamo del settore privato oggi siamo nel servizio pubblico il fatto è che anche se nel servizio pubblico credo che non ci siano tanti esempi di sludge fatto apposta per indurre il cittadino in errore c'è un sacco di sludge che è fatto non in maniera deliberata ma non intenzionale quindi pensate tutte le informazioni che vi sono difficili da trovare le forme che sono complesse insomma tutto quello che è caffiano nell'amministrazione pubblica italiana e altrove ora questo ancora una volta non è l'acqua calda però quello di cui volevo parlarvi oggi è che ci sono metodi per misurare sludge per misurare questi attriti e fare in modo di ridurli per esempio in Australia dove ho lavorato nel governo c'è un'unità che ha inventato quello che si chiama lo sludge audit in collaborazione con il professor Cassio Stein e applicano le scienze comportamentali per ridurre il tempo e il costo di tutti i servizi pubblici hanno fatto vari sludge audits e non ho il tempo di parlarvene esattamente però quello che voglio dirvi è che lo fanno per ogni servizio pubblico per esempio in questo caso era un esempio di sludge audits per la licenza di costruire il permesso di costruzione in italiano ovviamente sappiamo tutti che a volte è molto difficile ottenerlo ci vuole tempo e soldi e hanno fatto uno sludge audits che ha fatto in modo di far salvare ovviamente del tempo ai cittadini ma anche un sacco di soldi alla pubblica amministrazione perché lo sludge per i cittadini vuol dire anche tanto tempo passato dai funzionali pubblici che si potrebbe evitare di passare ora sludge audits io mi occupo della parte internazionale quindi quello che stiamo cercando di fare è di farlo a livello di più paesi insieme quindi mettere insieme più giurisdizioni più paesi per fare degli sludge audits sullo stesso servizio pubblico però in più paesi non vi posso dire di più dopo nella pausa se volete ora quello che facciamo all'Ocse allora io sono capo di scienze comportamentali e volevo soltanto dirvi un pochino quello di cui ci occupiamo facciamo in sostanza tre cose abbiamo una parte di portare insieme vari esperti nel mondo di economia comportamentale nei governi punto uno punto due è facciamo un sacco di standard di metodi cioè di cercare di aiutare i governi a applicare queste scienze comportamentali in maniera molto pratica e il terzo sono progetti quindi accompagnare vari governi in progetti specifici per la prima parte non so se avete mai visto questa mappa ma questa è una mappa di duecento istituzioni che applicano economia comportamentale nei governi nel mondo ed era stata fatta nel 2018 questa è una mappa Ocse e quindi tanto per darvi un'idea dell'amplitudine del fenomeno in Italia funzione pubblica effettivamente Formel sono stati pionieri in questo però c'è ancora tanto da fare ora questo è un grafico che vi mostra il cambiamento di nuove unità di economia comportamentale dal 2012 fino ad oggi e c'è stato veramente soprattutto durante Covid tantissimi governi hanno investito in fare sempre di più cercando di investire in quest'area perché ci siamo resi conto che era molto importante e quindi quello che facciamo all'Ocse è quando sono arrivata ho messo insieme questo network dove ci sono più di 100 persone solo dai governi da 46 paesi e sono abbastanza informali voi siete venuti in alcuni meetings e è veramente un posto dove è uno spazio per discutere e vedere quali sono le sfide che sono un po' in comune in tutti i vari paesi ora i presidenti del network sono gli Stati Uniti Canada e la Francia però ovviamente questo può cambiare e ci sono un sacco di cose che abbiamo messo in piedi la carta che vi ho mostrato visto che c'è uno sviluppo molto importante di nuove unità tutti i mesi l'abbiamo fatta resa online quindi se andate su questo sito vedete tutti i vari esperti nel mondo e li abbiamo collegato anche a tutti i vari progetti quindi le unità possono mettere progetti la seconda parte di cui volevo parlarvi è la parte di training quindi facciamo molti corsi per soprattutto governi che non hanno ancora un'unità di scienza comportamentale e ci occupiamo anche di fare un po' di standard soprattutto una cosa che ho fatto appena sono arrivata all'Ox è cercare di standardizzare l'uso delle scienze comportamentali dal punto di vista etico cioè cosa si può fare e cosa non si può fare con questo strumento perché è veramente un problema avete visto lo sludge come si può usare nel settore privato sicuramente non vogliamo fare qualcosa di simile nel settore pubblico e abbiamo messo insieme una guida di scienze comportamentali in cui diamo una checklist una cosa veramente pratica per per vedere se quello che si sta facendo nel settore pubblico è qualcosa che è nell'interesse dei cittadini e questo ovviamente è tutto online potete dargli un'occhia l'ultima cosa che volevo dirvi è il nostro lavoro più sui progetti questo è molto simile a quello che facevo prima quando lavoravo per un solo governo quindi si lavora con un ministero preciso e si fa spesso un esperimento da quando sono all'Ocse la differenza è che faccio degli esperimenti con più paesi insieme invece di fare un solo esperimento con il partimento della funzione pubblica e con un solo paese facciamo gli esperimenti con vari paesi messi insieme e un esempio del 2022 abbiamo fatto un esperimento con Canada e Francia per diminuire fake news cioè il numero di persone che condividono fake news la disinformazione è un tema molto importante all'Ocse per molti paesi paesi Ocse e non solo e quindi abbiamo deciso di fare mettere insomma più team insieme e quello che abbiamo abbiamo scoperto è che prima di tutto ci sono tantissime persone che condividono fake news online anche se non ci credono cosa che ha stupito molti soprattutto in Canada il private council quindi il primo ministro erano molto sorpresi di questo tipo di risultati anche se per molte persone non dovrebbe essere così sorprendente e la seconda cosa è che abbiamo fatto un esperimento e abbiamo dato lo vedete qua sulla sinistra abbiamo disegnato un prompt per migliorare la capacità delle persone a riconoscere fake news dato al momento giusto un nudge siamo riusciti a ridurre l'intenzione di condividere fake news del 21% quindi un altro esempio di una soluzione molto semplice quasi stupida che però può avere degli impatti molto importanti se pensiamo a tutte le persone che condividono fake news in linea ok spero di avervi dato un po' un quadro di quello che facciamo e l'altra cosa che volevo dirvi è che questo network di economia comportamentale in vari paesi è abbastanza aperta fatemi sapere se vi interessa ci vedremo in maggio a Parigi per quelli che potranno venire e ci sono tantissimi di questi progetti e di questi reports che sono in linea sono sul nostro sito quindi potete dare un'occhiata e l'altra cosa di cui sono molto felice e onorata è che la Commissione Europea ha deciso di collaborare con Funzione Pubblica e con l'Ox per continuare tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso quindi ci sarà un progetto che comincerà in 2023 speriamo presto che si chiama Behavioral Public Administration in Italy e credo che sia veramente un bellissimo riconoscimento del lavoro che queste persone hanno fatto fino adesso e che la Commissione Europea si sia interessata a questo e abbia deciso di supportarlo e mi fermerei qui grazie 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 mille grazie mille anche per questa vista dell'Ox su questo argomento innovativo e questo strumento innovativo diciamo e di questa sperimentazione appunto che stiamo diciamo portando avanti con queste attività se il professor Viale collegato possiamo dargli la parola mi sentite? mi sentite? sì prof c'è una domanda se puoi restare in attesa grazie sì 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 è stato interessantissimo questo intervento la ringrazio mi è sfuggito però il nome di questo progetto che dovrebbe partire e quindi lo chiedevo un attimo così per potermelo appuntare appunto perché mi sembra molto interessante poi mi sembra di capire che sarà curato da funzione pubblica ok grazie allora c'è un nome istituzionale che è orribile 23IT21 questo è il nome ufficiale del progetto che è molto burocratico credo che si chiamerà Next Generation Behavioral Public Administration in Italy quindi prossima generazione di pubblica amministrazione comportamentale in Italia il titolo può cambiare ma le persone che lavoreranno su questo non cambieranno quindi sarà Oxe in collaborazione con Funzione Pubblica e ovviamente cercheremo anche di collaborare con altri dipartimenti e altre pubbliche amministrazioni allora se non ci sono altre domande cedo la la parola al professor Viale bene Chiara grazie della bella notizia che non che non sapevo che hai dato in maniera quasi diciamo cinematografica online adesso in questo incontro quindi siamo tutti sorpresi e contenti e sono contento anche dei due interventi precedenti così alleggeriscono quello che dovrei dire perché sono già stati sviluppati alcuni concetti che avevo introdotto nelle slide diciamo la mia il mio obiettivo è quello di far capire quali sono le categorie di fattori che incidono nella performance organizzativa della pubblica amministrazione e che che possono essere eh affrontati con efficacia o meno dai eh architetture design comportamentali della pubblica amministrazione o per usare la parola così più eh allegra e divertente di nagging organizzativo e parto da queste due citazioni eh Max Weber eh riteneva che la burocrazia era il modo più razionale per eh per diciamo eh eseguire e controllare il eh gli esseri umani e l'altra parte è per Simon eh dall'analisi della pubblica amministrazione introdusse il concetto di band rationality per dire in sostanza che all'interno della pubblica amministrazione all'interno delle organizzazioni si decide in maniera soddisfacente non ottimizzante in quel periodo lui credeva ancora che nel nel mercato nel nel mondo economico ci fosse un attore che ottimizzava cosa che poi dopo ovviamente ha cambiato proprio partendo dai dai lavori dei suoi primi lavori che erano sulla pubblica amministrazione in particolare del comune di Milwaukee e per cui l'approccio di soddisfazione eh lo ha poi esteso anche al mondo economico e da lì nacque l'economia comportamentale come tutti sappiamo in ogni caso è interessante che la burocrazia è la modalità più razionale per riuscire a eh diciamo neutralizzare alcuni aspetti della razionalità limitata dell'individuo eh e e se quello però succede quando diciamo la razionalità limitata è eh ha una capacità adattiva e non quando esistono delle patologie serie nei processi intitizionali e di azione eh ho soltanto una breve breve premessa eh scusate anche se parlo in maniera un po' sconnessa ma sono super influenzato a di modo tutto questo discorso che eh portiamo avanti oggi in questo seminario e in questi eh anni in cui abbiamo in cui abbiamo lavorato e analizzato sperimentalmente le eh le variabili cittadinanza organizzativa nascono molti anni fa alla scuola nazionale dell'amministrazione che si chiamava SSPA quando eh furono introdotti eh cercai di sensibilizzare in sostanza la scuola e i dirigenti all'importanza delle scienze comportamentali e dal 2001 2010 si furono corsi eh per manager eh e master a SNAP proprio su queste tematiche e anche il corso concorso per dirigenti della pubblica amministrazione eh fu nel suo programma influenzato da questo nuovo approccio alcuni di questi progetti eh e di diciamo project work soprattutto tesine che facevamo fare i dirigenti che venivano nei corsi le migliori eh eh con eh diciamo colleghi fra cui c'era anche Davide Pietroni eh riuscimmo poi dopo a realizzare una eh una issue eh un'edizione proprio eh rivolta a questo tema sistemi intelligenti che la rivista italiana di scienze cognitive e di scienze artificiali e l'introduzione nell'introduzione io pensai di usare la parola via via pubblica amministration mi sembrava una forzatura dicevo via pubblica amministration poi eh ho scoperto questo nel 2009 ho scoperto che poi la forzatura divenne una eh un nuovo concetto una nuova disciplina tante che che adesso tre e quattro anni fa è nata anche una rivista accademica chiamata via via pubblica amministration quello per dire in sostanza eh come eh diciamo partì questo lavoro che poi ha portato alla creazione del team di analisi comportamentale per sua funzione pubblica con il sostegno del forum e che chiaramente tutto come sappiamo parte dal eh famoso libro del 47 amministra di Dievio di Herbert Simon in cui si introduce il concetto di razionalità limitata eh razionalità limitata per eh diciamo sintetizzare è eh quella eh quel modello che eh caratterizza le decisioni umane come un rapporto fra le nostre caratteristiche mentali e direi di embodied cognition di cognizione incorporata e la struttura dell'ambiente e del compito che andiamo ad affrontare quindi complessità e incertezza dell'ambiente insieme a caratteristiche mentali come debole memoria a breve termine eh ruolo delle emozioni e così via porta a decidere e la decisione da questo punto può essere più o meno eh efficace o adattiva e da questo punto di vista l'altra eh metafora interessante è quella della formica nella spiaggia per capire cosa significa decidere in maniera adattiva cioè avere un processo di eh diciamo di decisione eh che è razionale perché è adatto all'ambiente in cui si eh manifesta e questa formica che ha questo percorso così strano sulla spiaggia uno potrebbe pensare che la formica è pazza ha qualche problema eh diciamo neuropsichiatrico in realtà la formica sta seguendo soltanto il percorso delle buche e delle cunette che sono nella spiaggia e quindi di fatto si adatta alle alla complessità e anche all'imprevedibilità del percorso stesso nella spiaggia e questa è un po' la metafora del nostro modo di ragionare eh in generale e all'interno delle organizzazioni come quella della pubblica amministrazione ecco allora a questo punto quali sono le caratteristiche comportamentali io l'ho fatto in inglese perché sapendo che c'era Siboni e le slide in inglese la maggior parte di Siboni volevo che almeno dato che parlavo italiano riuscisse a seguire un po' il la presentazione allora io vado quali sono le caratteristiche comportamentali che influenzano la performance dell'organizzazione e sono connesse al nudging di fatto cioè sono connesse al design comportamentale dell'organizzazione al design dell'architettura comportamentale del decision making all'interno dell'amministrazione pubblica ovviamente non certamente il naggi non è certamente non corrisponde alla figura che vedete nella nella vignetta ma è l'opposto è quello che cerca appunto in maniera non autoritaria ma in maniera psicologicamente ecologicamente positiva di cambiare il comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione allora il primo di cui sarò più lungo dato che gli altri due sono stati già sviluppati da Chiara e da Olivia sono prima categoria di fattori che possono che hanno un impatto sulla pubblica amministrazione sono quelle che si chiamano e che sono state anche prodotte brevemente da Olivier sono le euristiche adattive organizzative e il concetto di razionalità ecologica cioè le euristiche per riassumere sono quei processi di decisione semplificati che non portano a certezza di di essere formalmente corretti o di essere veri in quello che noi generiamo ma che ci permettono di affrontare situazioni in cui abbiamo complessità abbiamo instabilità abbiamo incertezza dell'ambiente in cui noi stiamo decidendo ecco Gigerenge per esempio in uno studio che ha fatto ha calcolato che la maggior parte delle decisioni importanti nelle aziende sono fatte sulla base di intuizioni ed euristiche non usano quindi modelli di ottimizzazione come ci racconta la vulgata insegnata nelle business school ogni ogni società se poi dopo ha continuato a lavorare su questo tema ha delle euristiche specifiche che vengono applicate per risolvere determinati problemi il principio è quello non non inventato da Gigerenge che non è quel signore con il sigaro lui è il grande capo della Bauhaus e la Bauhaus introdusse il principio less is more cioè dell'importanza di avere processi di giornali semplici frugali che possono essere anche veloci o meno cioè la velocità è un fatto che può dipendere dal contesto per cui delle volte bisogna essere veloci dall'altra può essere diciamo deciso invece di non esserlo di valutare in maniera più approfondita i vari aspetti in ogni caso quando abbiamo ambienti incerti si è dimostrato che questo tipo di processo giornali è più efficace che gli algoritmi di ottimizzazione l'obiettivo dell'approccio di razionalità ecologica è quello di cercare di capire quali euristiche vanno bene in determinati ambienti e compiti decisionali non soltanto nella realtà della vita quotidiana ma anche a livello organizzativo e nella pubblica amministrazione e di vedere di come elaborare un'adaptive toolbox una cassetta degli attrezzi delle euristiche che sono più interessanti e importanti da utilizzare in determinati contesti l'accuratezza la velocità la frugalità la semplicità sono gli aspetti paramatici appunto delle euristiche qui vediamo le due bisogni di razionalità la sinistra la razionalità ottimizzante chiamata anche daemons e l'altra parte la razionalità limitata da una parte si arriva a ottimizzazione sotto vincoli che è l'approccio un pochettino più moderato della razionalità ottimizzante e dall'altra parte appunto alle euristiche veloce frugali e a satisfarsi nelle organizzazioni esistono in genere dagli studi fatti quattro macrotipi di euristiche organizzative quella di selezione quella procedurale delle procedure da adottare quella legata alla tempista e quella legata alle priorità adesso non sto a proponire questa parte ma pensate ad esempio a una euristica di selettiva in un'organizzazione che potrebbe essere fine marketing soltanto su social media non su altro questo è un tipo di regola che fa parte delle euristiche di selection e che ogni azienda diciamo configura in maniera diversa ovviamente una euristica è introdotta in un'organizzazione attraverso vari modi che siamo qua a approfondire e le euristiche quindi queste regole semplici sono molto importanti quando siamo in situazioni di incertezza come vedete qua la situazione di incertezza è quando non conosciamo le conseguenze delle nostre decisioni e la probabilità in genere però è non conosciuta quindi c'è un outcome outcome conosciuto e probabilità non conosciuta anche se poi dopo questa sarebbe un'incertezza che potremmo dire epistemicamente invece poi un'incertezza radicale anche l'alcool non è conosciuto in ogni caso più gli ambienti in cui dobbiamo decidere sono incerti e quindi diciamo situazioni ad esempio di turbolenza come nella creazione di start up o aziende high tech oppure a livello amministrativo nel cambiamento di governo e quindi l'impatto del cambiamento di governo può avere una data agenzia pubblica più abbiamo quindi questo tipo di situazione più le oristiche decisionali possono essere utili a decidere e sempre che appunto ci siano caratteristiche di ridondanza e variabilità dell'informazione cioè in sostanza che ci siano alcune informazioni che sono molto più importanti dell'altra e che quindi basta accogliere quell'una o due informazioni per avere realmente una capacità di rappresentare il fenomeno nella sua evoluzione quindi quando mancano dati rappresentativi perché si sta cambiando organizzazione sta cambiando come quando si crea una nuova agenzia pubblica non si ha memoria organizzativa si deve costruire tutto da zero in questo caso è allora importante essere euristici perché non si hanno le traiettorie definite tipiche di una organizzazione che ha già una tradizione di attività passata e per finire le per finire sulle euristiche la cosa importante è stato definito e dimostrato come le euristiche migliorano il coordinamento della gente all'interno dell'organizzazione il rapporto accuratezza sforzo cioè in sostanza buona accuratezza con poco sforzo hanno la capacità di improvvisare le decisioni in situazioni dinamiche e turbolente possono risparmiare tempo e ridurre l'attenzione cioè permette di avere più risorse di attenzione su altri aspetti che possono che necessitano più attenzione rispetto a questi processi decennari quindi riducono il il burden cognitivo il carico cognitivo e ti permettono quindi di approfondire altri aspetti che sono in cui bisogna avere più attenzione e più capacità di di ragionamento di decisione analitica e poi dopo possono essere disseminate molto facilmente bene e questo è il primo aspetto che volevo sottolineare in maniera più specifica perché è un campo emergente quello dell'ecological rationality nelle organizzazioni il cui diciamo si sa ancora poco e che potrebbe essere un tema molto interessante da approfondire per il team di analisi comportamentale il secondo quello più tradizionale che parte da un concetto di razionalità completamente diversa una razionalità in questo caso è quella formale quella che segue i principi della teoria della probabilità della logica deduttiva e della massibilizzazione dell'utilità quindi i bias in genere sono quelli che sono decisioni che non si conformano a questo modello di razionalità e in questo caso abbiamo già visto dividendo i processi decisionali in tre diciamo momenti nella raccolta informazioni nella lavorazione della soluzione nell'azione vediamo una serie di bias già messi in luce prima come il bias di conferma quello per cui si tende a diciamo cercare informazioni che confermano le proprie ipotesi non che le mettono in discussione per cui come diceva Karl Popper di osservazioni a conferma delle proprie teorie ne possiamo trovare a milioni però non ci dicono niente se la nostra teoria è veramente robusta o meno all'elaborazione della soluzione lì tutto il tema del rapporto fra individui e membri in termini di organizzazione quando devo elaborare una soluzione con le varie forme di polarizzazione di di group think quindi di anestesia del pensiero critico e poi nell'azione molto legato a questi bias molto simili perché legati a aspetti emozionali in particolare come quello di di ottimismo come il bias egocentrico come l'illusione di controllo delle variabili di rischio e anche l'overconfidence che è cognitivo e che si collega agli altri che ti portano ad agire quando uno dovrebbe fare la tua attenzione ad agire stesso perché la situazione non è così ben definita e uno si illude che lo sia quindi questa è la seconda parte importante di dove fare un'analisi comportamentale nella pubblica amministrazione e che dovrebbe essere quello anche dello sviluppo futuro di questo team di analisi comportamentale il terzo che non viene mai preso in considerazione che io trovo invece che sia molto importante sono i disordini della personalità cioè gli aspetti psicomatologici noi partiamo dal presupposto che nelle organizzazioni tutti stiano bene a livello di salute mentale ma non è così perché se è vero che il 10% in Italia ha disordini della personalità questo 10% disordini della personalità lo possiamo applicare anche alle organizzazioni quindi in ognuna delle nostre organizzazioni nella PA avremmo a che fare con un 10% che ha qualche problemino della personalità e sappiamo benissimo che bastano poche persone all'interno di un'organizzazione con qualche problema tipo con personalità di carattere paranoide cioè quindi con una cultura del sospetto con una tendenza a creare polarizzazioni artificiose con una tendenza diffamare con quello che Erich Fromm chiamava narcisismo maligno per mettere in discussione il benessere organizzativo in maniera molto seria poi le personalità schizotipiche a cui non possiamo assegnare valutazioni che sono particolarmente delicate e sensibili perché la persona schizotipica in genere è abbastanza inaffidabile e poi i bipolari cioè quelli che si alternano depressione e euforia che possono anche loro creare degli squilibri a livello emozionale all'interno di un'organizzazione stessa quindi io dico quando si va ad analizzare un'organizzazione è importante anche tenere in considerazione questi aspetti e non partire dal presupposto che tutti gli individui siano persone che non abbiano nessuno problemi di natura legati alla personalità quarto io definisco epistemologico a livello appunto non più individuale ma sociale e sono i valori all'interno di un'organizzazione stessa cioè il valore la mancanza della cultura dell'errore la tendenza al conformismo la mancanza di critica diciamo il divieto a mettere in discussione le tesi che vengono dall'alto e così via e che porta poi alla fine ad una mancanza di apprendimento organizzativo attraverso tentative d'errore che porta quindi all'organizzazione a stagnare e a non migliorare e non innovare a livello normativo come diceva Davide prima il problema della giungla di norme dell'opacità della complessità della contradditorietà delle norme stesse porta a quello che si chiama le decisioni di carattere difensivo e prudenziale cioè in genere nella propria amministrazione non tanto per colpa degli addetti alla PIA ma per colpa del ceto politico che ha introdotto questa complessificazione scusate delle norme si tende a non muoversi a rimanere immobili si ha una avversione a rischio enorme delle proprie sulle auto delle proprie scelte per la paura appunto di incorgere in non compliance rispetto a qualche sottonorma nascosta all'interno della norma stessa e quindi rischiare a livello professionale patrimoniale penale talvolta quindi quello è il grande problema della nostra pubblica amministrazione non causato tanto dai addetti dall'APA ma causato dal ceto politico il sesto il tema dello slag non vi sto a raccontare qua perché è stato introdotto da Chiara che slag vuol dire mail ma è del modo con cui la pubblica amministrazione diciamo non aiuta il cittadino a risolvere i suoi problemi ma in maniera consapevole e inconsapevole pone barriere limiti ritardi resistenza ostilità fino a quello che viene chiamato il dystopic e-welfare cioè quello che il welfare tutto basato sulla le connessioni in internet non permette a cittadini che non hanno una conoscenza digitale sufficiente come persone anziane o gente che non ha avuto la possibilità di imparare questa metodologia di interazione col computer di rimanere fuori dal welfare perdere i sussidi oppure non averli quando si ha diritto ai sussidi stessi settimo il tema sempre a livello sociale cioè nell'organizzazione più che per l'indirizzare del noise che è stato introdotto da Simoni di cui il noise è un concetto proprio che è stato di fatto sviluppato da lui con Kahneman e Sunstein e arriviamo a quello che è il tema soprattutto dei risultati del team di analisi comportamentale che è il comportamento di cittadinanza organizzativa il comportamento di cittadinanza organizzativa che si basa su tre aree altruismo consensualità e spirito civico le teorie che si stanno dietro sono varie c'è la teoria del crowding di Frey e Le Grand ad esempio cioè il fatto che uno si sente parte di un'organizzazione cioè un'identità organizzativa non tanto per motivi solo economici e monetari ma per altre ragioni di carattere valoriale emozionale così via i concetti di voice e loyalty di Hichmann che molti di voi conoscono e poi la teoria della self-determination cioè se si vuole motivare un dipendente della pubblica amministrazione è quello che è importante che lui si senta in grado di apportare risorse per innovare e cambiare l'organizzazione in cui si trova che si sente avere lo spazio per innovare senza di essere libero non vincolato e costretto in sentire angusti dei suoi processi decisionali Nicolo quanto tempo ho già esaurito prof se ti puoi avviare alle conclusioni bene allora non sto a introdurre cos'è credo CBI e tutto quanto vado direttamente al diciamo a esporre due note su cose del team di analisi comportamentale che si è creato tre anni fa è un team che utilizza le scienze comportamentali l'economia comportamentale la teoria del Nudge e del Boost e altre teorie per migliorare non tanto le politiche pubbliche in quanto nato all'interno del Dipendimento di Funzione Pubblica il suo obiettivo era migliorare la pubblica amministrazione quindi di fatto Chiara correggimi fosse stata la prima unità di analisi comportamentale dedicata e focalizzata sulla pubblica amministrazione e non sulle politiche pubbliche lo staff era composto da Silvia Felletti fino al 21 poi Davide Petronimo e da Cucchialini che sono ancora presenti Flavio Ordini che è rimasto fino al 21 come esperti Marco De Giordi che è stato la persona che ha spinto per la creazione del team di analisi comportamentale che era il direttore del comitato per la valutazione della performa nella PA poi Sveva Batani che ringrazio che è stata il nostro pilastro in tutti questi anni Rosaria Giannella Antonio Fusso e Giancarlo Beccati Gianfranco Beccati questo team poteva iniziare su vari temi a lavorare a livello di design comportamentale e anche di diagnosi comportamentali prima si è preferito lavorare su l'acceleranza organizzativa anche perché l'acceleranza organizzativa in Italia a livello di cui l'amministrazione non ha mai stato studiato e si sa che la cittadinanza organizzativa questi valori sono importanti per la performance quando sono presenti in tutti gli studi che sono stati fatti all'estero anche e soprattutto nel mondo delle imprese private ma anche in alcune pubbliche perché è stato più studiato lo cibi all'interno della impresa privata si è lavorato su sei amministrazioni centrali dello Stato l'agenzia delle entrate l'istituto commerciale l'agenzia spaziale italiana Enea Inap Egea quattro sono stati i passaggi un'analisi qualitativa della cultura organizzativa una salvixante su appunto le variabili cittadinanza organizzativa poi un intervento di stimolo comportamentale di design comportamentale per migliorare alcune variabili quando queste variabili non erano diciamo così ben solide e robuste e poi un'analisi esposto per vedere cosa era successo dopo l'intervento di Nacini quello che si è visto e poi adesso Veronica esporrà tutti i risultati quello che ho voluto soltanto portare due slide nella ultima fase in cui si è visto l'impatto del naggio di un organizzativo sono avuti questi risultati del OCB totale cioè tutte le variabili prese globalmente in cui si vede la differenza fra chi non aveva partecipato all'iniziativa del dipendente chi invece aveva partecipato quindi aveva avuto anche gli stimoli comportamentali e sull'altruismo coscienziosità virtù civica soprattutto coscienziosità si vede come c'è un aumento rilevante della variabile comportamentale stessa quindi i risultati mostrano effetti complessivamente positivi del progetto attuato a favore dei comportamenti di cittadinanza organizzativa all'interno delle pubbliche amministrazioni coinvolte le analisi traversali hanno evidenziato che coloro che sono a conoscenza del progetto sperimentano più alti livelli OCB in tutte le sue dimensioni allo stesso tempo attribuiscono livelli più alti OCB anche ai propri colleghi e alcune di queste cose sono nel libro faccio più pubblicità nel libro Nargin uscito adesso M.I.T. Press e in quello che uscirà sempre M.I.T. Press che avrà il titolo B.E.R. Bureaucracy grazie 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 professor Viale passiamo alla parte in cui vi raccontiamo nel merito quello che abbiamo realizzato in questi tre anni quindi invito gli altri membri del team di analisi comportamentale a raggiungermi qua così che facciamo un racconto il più possibile completo quello che abbiamo sentito finora è sicuramente molto utile e è quello che poi è stato uno dei punti di valore aggiunto di questa sperimentazione perché si è basata su una importante competenza scientifica che ha rafforzato anche la nostra voce come Dipartimento Funzione Pubblica nell'andare nelle amministrazioni e proporre un'attività che è oltre a quella che è il core business quello che è la mission istituzionale delle amministrazioni noi sappiamo quanto tanti elementi strutturali delle amministrazioni portano ad un sovraccarico di lavoro del personale e quindi quanto è importante quando si riesce ad ottenere il commitment delle amministrazioni per poter lavorare con loro su qualche cosa che non sia il mandare avanti l'attività quotidiana perché chiediamo uno sforzo ulteriore quel miglio in più che promettiamo che possa dare dei grandi risultati ma che al momento può creare quello sforzo organizzativo in più che può creare un posto quindi intanto io ringrazio moltissimo le amministrazioni che hanno partecipato perché di fatto ci hanno permesso di lavorare in ottica di ricerca intervento che forti appunto delle competenze scientifiche portate dal nostro team di esperti ci ha permesso anche però di poter garantire quella promessa che abbiamo fatto alle amministrazioni di è vero vi chiediamo uno sforzo ma cercheremo il più possibile di non fare una ricerca fino a se stessa ma di darvi dei risultati che possano in qualche modo essere promettenti per voi e misurabili già nell'immediato quindi come dipartimento come ufficio di valutazione performance chiaramente la nostra mission istituzionale era lavorare sulla performance quindi cercare di individuare degli strumenti e degli approcci innovativi al miglioramento della performance della pubblica amministrazione sappiamo che c'è questa vulgata non esattamente elogiativa di quanto la pubblica amministrazione sia performante in realtà noi abbiamo sempre creduto che ci siano tantissime leve che possono essere attivate e che non sono quelle classiche degli incentivi monetari perché la letteratura ci parla di come gli incentivi non monetari possono essere assolutamente determinanti nel migliorare la nostra esperienza lavorativa individuale e quindi anche il risultato che noi riusciamo a portare nella nostra attività lavorativa quindi quando abbiamo parlato con il professor Viare il professor Petroni Veronica Cucchiarini Silvia Felletti che nel momento non è presente ma che è stata un pilastro importante di questo team e il professor Urbini abbiamo detto va bene buttiamo il cuore per lo statolo andiamo a parlare di scienze comportamentali nella pubblica amministrazione è un tema d'avanguardia un approccio ancora non del tutto diffuso quindi comunque anche con delle difficoltà nel farci capire e anche noi per trovare un terreno comune di dialogo e l'obiettivo finale l'outcome che volevamo misurare era l'aumento della qualità del lavoro pubblico però ci siamo dati anche degli obiettivi di medio termine che erano quelli di andare a misurare delle variabili che in letteratura ci dicevano che avevano a che fare con il miglioramento del benessere organizzativo e quindi della produttività individuale dei lavoratori quindi cosa volevamo fare andare a lavorare su questo concetto piuttosto ampio ed articolato dei comportamenti di cittadinanza organizzativa del quale poi le cui dimensioni vi verranno raccontate più diffusamente dai nostri esperti siamo riusciti a coinvolgere attivamente contati uno per uno attraverso anche grazie alle sarve che abbiamo somministrato quasi 3.000 dipendenti pubblici è un tasso di partecipazione che in ciascuna amministrazione ci ha sempre molto colpito e che abbiamo deciso di assumere esso stesso come indicatore non solo di buona riuscita del progetto ma anche di livello di cittadinanza organizzativa interno all'amministrazione perché quel miglio in più veniva chiesto al singolo dipendente di compierlo e quel singolo dipendente ha deciso autonomamente senza avere nessun beneficio immediato di dare per la sua amministrazione quindi abbiamo realizzato questa sperimentazione che è partita in un mondo diverso perché è partita nel pre-pandemia quindi questa idea di sperimentazione nasce con l'idea di andare in ogni amministrazione conoscere stringere mani guardarsi negli occhi per proporre appunto questo tema innovativo e invece e invece a gennaio 2020 questo parte e ci scontriamo con un mondo stravolto per cui tutto ciò che era stato pensato in presenza dobbiamo fare questo sforzo di portarlo online quindi un tema d'avanguardia una sperimentazione il momento di pandemia in cui tutti noi dovevamo imparare a lavorare in maniera diversa devo dire che lo sforzo iniziale che abbiamo fatto per ottenere quello che era necessario cioè il presupposto di avere l'engagement da parte delle amministrazioni è stato uno sforzo importante e perché di fatto non bastava diciamo un ok di massima dei vertici delle amministrazioni perché magari arrivava il dipartimento della funzione pubblica e allora magari anche per cortesia istituzionale si diceva di sì poi era importante che ci fossero le persone all'interno delle amministrazioni che veramente credevano in quel progetto e la costituzione dei gruppi di lavoro interni è stato un punto fondamentale perché sono stati quei gruppi di lavoro che poi hanno creato un lavoro costante con tutti quanti noi in ogni fase progettuale perché questi gruppi non avevano solamente il compito di essere per noi dei sensori dentro l'amministrazione ma anche di essere quei elementi di coprogettazione ci potessero fornire per calare quella che era un'idea progettuale il disegno della nostra ricerca all'interno di ciascuna amministrazione perché sappiamo quanto un'amministrazione è un ecosistema assolutamente delicato e come ogni intervento anche sperimentativo possa creare un effetto boomerang che possa essere assolutamente deleterio e non volevamo farlo non solamente per serietà ma anche perché come funzione pubblica volevamo migliorare la performance sarebbe stato un fallimento totale per cui anche per esempio l'idea di lavorare in un'ottica di controfattuale quindi di andare a misurare gli effetti in un'ottica quasi sperimentale per cui dividendo le persone in gruppo intervento e gruppo trattamento era un'ottica così delicata che volevamo capire se era fattibile con le amministrazioni e capire come poterla gestire in effetti poi alla fine abbiamo potuto creare questo gruppo di trattamento e gruppo di controllo così come delimitare l'ambito di sperimentazione attraverso il colloquio con i gruppi di lavoro e attraverso i focus group in effetti in alcune amministrazioni che hanno dimensioni differenti tra loro e hanno articolazioni organizzative molto diverse tra loro e culture organizzative molto diverse tra loro abbiamo potuto in alcune decidere di fare la sperimentazione con tutto il personale in altre amministrazioni che hanno magari una struttura organizzativa più articolata invece è stato preferito lavorare su singole partizioni su singole articolazioni e questo abbiamo potuto anche osservare che è stata la soluzione migliore proprio perché era stata coprogettata con i gruppi di lavoro interni abbiamo quindi fatto deciso stretto un patto con questo gruppo di lavoro di darci un calendario di attività che rispettasse le macrofasi progettuali e che abbiamo cercato di portare avanti per tutto questo periodo nonostante tutte le difficoltà di contesto che insomma conoscete per cui sono state realizzate all'inizio dei focus group attraverso questo strumento qualitativo che la nostra Veronica ha gestito egregiamente è stato possibile andare a indagare quella che era la cultura organizzativa ma anche quali erano quegli elementi di forza e di aree di miglioramento che i dipendenti percepivano non solo ma ci ha permesso di far emergere alcuni bisogni conoscitivi che in ciascuna amministrazione erano peculiari e che ci hanno fatto aggiungere delle aree di ricerca nel corso della ricerca stessa che poi vedremo subito dopo per cui c'è tutta la parte di engagement del personale che abbiamo cercato di costruire già costruendo le comunicazioni che venivano mandate al personale per per esempio la prima survey che contenessero dei piccoli nudge per cui un invito a partecipare perché già altre amministrazioni stavano partecipando o che o valorizzando il contributo del singolo rispetto all'organizzazione che nella quale lavorava in questo modo appunto siamo arrivati alla fase di somministrazione del questionario assante che si dava come obiettivo quello di rilevare il valore di baseline sul quale poi avremmo voluto valutare gli effetti dell'intervento che era basato poi sui nudge abbiamo poi ogni volta dato grande spazio alla discussione dei risultati con il gruppo di lavoro e spesso ci è stato chiesto di condividere questi risultati con i vertici delle amministrazioni per avere un termometro intermedio di quello che stava succedendo alcuni per esempio hanno utilizzato questi risultati anche in chiave di indagine di benessere organizzativo abbiamo visto che quello che stavamo facendo ha portato a vari spin off sia in corso in quel momento in itinere che adesso nelle cose che poi vedremo che ci racconteranno le amministrazioni c'è stata poi la parte di proposta di tutto quello che come catalogo di nudge che eravamo stati in grado di elaborare sulla base non solo delle teorie e letteratura ma dei singoli contesti organizzativi che avevamo conosciuto per cui il team ha proposto questo catalogo di possibili interventi organizzativi che ricordiamo erano ulteriormente complicati da questo contesto di tutto lavoro online e una fase quindi di implementazione dei nudge che venivano scelti dal gruppo di lavoro e infine una fase di misurazione degli effetti attraverso una somministrazione ex post dello stesso questionario che era in autosomministrazione e sempre chiaramente online per cui l'ottica diciamo quasi sperimentale che abbiamo adottato si basava su queste quattro macrofasi per cui un'indagine ex ante sia quantitativa che qualitativa la fase di intervento quindi di trattamento del gruppo attraverso appunto le strategie di nudging la misurazione ex post e adesso siamo nella fase di discussione di questi risultati e di possibile realizzazione di un set di buone pratiche che possano essere una base di toolkit o di comunque strumenti di diffusione di scalabilità di questa sperimentazione le variabili quindi che abbiamo indagato con le rilevazioni sia ex ante che ex post quindi su cui abbiamo cercato di misurare gli effetti sono non solo quelle componenti quelle dimensioni che hanno a che fare con quel concetto di cittadinanza organizzativa ma appunto come frutto dei focus group e delle riflessioni che questi che quei mesi di lavoro stavano portando abbiamo pensato di inserire ulteriori aree di indagine che hanno a che fare sempre con la letteratura nel del tema che hanno a che fare con la identificazione organizzativa le equità sforzo ricompensa per cui il senso di frustrazione oppure di soddisfazione che il dipendente ha quando compie un bilancio cognitivo ed emotivo tra ciò che pensa di dare all'organizzazione e i benefici che ritiene di ricevere in cambio il senso di engagement quindi di impegno di stato mentale positivo che le persone hanno rispetto al lavorare e la soddisfazione lavorativa ma non solo abbiamo deciso di incrociare quelli che erano questi effetti con alcune variabili che avevano a che fare con alcune caratteristiche dell'individuo queste caratteristiche ci sono venute in mente non solo con le classiche diciamo legate e anche a cui si arriva intuitivamente legate all'età o al genere è chiaro che sappiamo che una persona di un'età più elevata piuttosto che una di età più giovane può avere una soddisfazione lavorativa o un senso di engagement differente ma alcune legate per esempio all'inquadramento lavorativo inteso come anzianità di servizio è chiaro che una persona a inizio carriera può avere un approccio diverso da chi invece ha già lavorato tanti anni in quella organizzazione il precedente percorso lavorativo perché parlavamo con alcune amministrazioni che dicevano noi abbiamo una buona parte di personale che in realtà viene da un processo di reclutamento recente ma viene dal mondo privato quindi vogliamo vedere se questa variabile in qualche modo avesse un qualche tipo di effetto anche sulla sperimentazione e l'inquadramento professionale inteso come un livello di inquadramento che avesse a che fare con ruoli operativi piuttosto che direttivi ma non solo una parte sicuramente molto interessante è stata quella delle dinamiche organizzative alcune amministrazioni coinvolte erano per esempio degli enti di ricerca questa dinamica di dialogo dicotomia per esempio tra l'area di ricercatori e tecnologi quindi legati alla missione istituzionale di un ente di ricerca e il personale che invece si occupa delle attività trasversali quindi di supporto necessario ma vissuto a volte come faticoso da chi è ricercatore tecnologo avevamo colto che aveva una ripercussione importante nelle dinamiche organizzative e quindi sulle performance e quindi siamo andati a indagare per esempio l'inquadramento professionale inteso come chi lavorava nella settore ricerca quindi nella missione istituzionale piuttosto che nel settore di supporto tecnico amministrativo oppure delle dinamiche centro periferia vi ricordo c'era l'istituto del commercio estero che ha una ramificazione a livello mondiale quindi come veniva vissuta e che impatto aveva l'essere un dipendente italiano che stava nella sede di New York piuttosto che l'amministrativo che stava nella sede qua a Roma a magari a gestire le missioni di quello di New York oppure in agenzia delle entrate chi stava a contatto diretto con l'utenza piuttosto che chi invece doveva gestire tutta la fase istruttoria precedente o a monte ma ancora era appunto scoppiata l'evento del lavoro agile in maniera totalizzante quindi che impatto le amministrazioni ci hanno chiesto di chiedere di cogliere quell'occasione in cui si stava parlando con il loro personale per capire il livello di soddisfazione piuttosto che di disagio cioè il lavoro agile veniva vissuto come un'attenzione che l'amministrazione stava dando al personale perché non lo esponeva a un rischio contagio oppure invece prevaleva un senso di isolamento e questo che impatto poteva avere sui livelli per esempio di identificazione organizzativa o di comportamenti di cittadinanza organizzativa e per ultimo l'ottica sperimentale per cui sei parte del gruppo trattamento oppure no ora abbiamo visto che noi non volevamo in nessun modo creare un effetto boomerang quindi che cosa abbiamo fatto non abbiamo fatto questa partizione a monte ma a valle della realizzazione della sperimentazione abbiamo fatto abbiamo chiesto ai dipendenti che ricevevano e che stavano compilando il questionario ex post se avessero percezione di essere stati coinvolti o meno nella sperimentazione in base alla loro risposta noi sapevamo che erano tutti coinvolti perché noi stavamo andando in questionario tutti quelli che avevano partecipato alla sperimentazione eppure buona parte non ha riconosciuto quella di essere stato esposto ad uno stimolo ecco quella non percezione abbiamo deciso di trattarla come ok fai parte del gruppo di controllo e misuro gli effetti se ci sono delle differenze di effetto tra invece chi è pienamente consapero di aver partecipato alla sperimentazione quindi ricorda magari in agio ricorda la prima somministrazione del questionario quello verrà considerato un gruppo di trattamento e quindi queste sono le variabili che abbiamo aggiunto a questa survey strutturata sulla base dei quali poi abbiamo effettuato tutte le analisi degli effetti che abbiamo potuto misurare in questo modo e a questo punto passo la parola al professore Urbini che invece ci racconta proprio l'inquadramento teorico e le dimensioni che compongono gli OCB quindi gli strumenti che abbiamo utilizzato per misurarli e le dimensioni Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Flavio Urbini, sono ricercatore in psicometria alla LUMSA di Roma e ho fatto parte del TAC, un'esperienza meravigliosa, veramente molto molto interessante. E per questo motivo ci tengo a ringraziare prima di tutto le organizzazioni pubbliche che hanno partecipato alla sperimentazione. 2800 persone, non sono poche, che hanno dedicato del tempo a partecipare a qualcosa di innovativo. E poi un ringraziamento velocissimo alla dottoressa Batani che ha svolto egregiamente il ruolo di connettore tra noi esperti e le pubbliche amministrazioni. Veramente è stato bello vedere dal di dentro processi così che uno pensa alla pubblica amministrazione in maniera stratta, invece poi ci sono persone di valore che ci lavorano dentro. Ok, detto questo non vado subito al sodo. Allora, strumenti valutativi degli organizational citizenship behaviors, dei comportamenti di cittadinanza organizzativa. Prima di presentarvi questi strumenti valutativi, in gergo noi li chiamiamo scale di misura, è necessaria secondo me una velocissima ma doverosa premessa. Che è la seguente, partiamo dalla prestazione lavorativa, tutti sicuramente sappiamo che cos'è, però lo ricordiamo. La prestazione lavorativa è quello che le persone fanno per contribuire agli obiettivi organizzativi. Come si realizza una prestazione lavorativa? Attraverso un determinato comportamento che viene compiuto da un lavoratore o una lavoratrice, è finalizzata a che cosa? A un specifico obiettivo organizzativo. Come si valuta questa prestazione? Qui da parte, diciamo, di nostra pertinenza. Utilizzando degli indicatori. C'è qualcosa di oggettivo, di misurabile, che appunto va a misurare il livello di efficacia con cui quella persona ha svolto, agito, quella prestazione. La prestazione lavorativa può essere considerata come un costrutto. Un costrutto sostanzialmente in ambito psicologico è un fenomeno, un'entità, che non è osservabile direttamente, ma viene inferita attraverso degli indicatori che quelli simplici devono essere misurabili. E per quanto riguarda la prestazione lavorativa, diciamo, questa ha una struttura composta da due parti. Le task performance e le contextual performance. Le task performance sono sostanzialmente l'efficacia con cui una persona svolge i propri task, i propri compiti, che, attenzione, sono formalmente richiesti da ruolo, cioè sono stabiliti dal contratto di lavoro e che poi contribuiscono a portare avanti il nucleo tecnico dell'organizzazione. Cioè, quello che sostanzialmente una persona deve fare perché è previsto contrattualmente. A differenza, invece, di quelle che sono le contextual performance. Queste contextual performance sono dei comportamenti discrezionali, volontari, non formalmente riconosciuti dal proprio contratto di lavoro e che comunque contribuiscono all'efficacia organizzativa, migliorando l'ambiente sociale e psicologico dell'organizzazione. Un esempio velocissimo, banale, mi scuso se è troppo semplice, ma che rende bene l'idea, pensiamo a un'azienda che ripara automobili. Le task performance quali sono per un meccanico? Sono quelle che prevedono di riparare con destrezza un'autovettura. È previsto contrattualmente, lo deve fare, e quello è una in-roll performance. Cosa va, invece, la differenza con un altro contextual performance? È che, sempre nella stessa azienda, lo stesso meccanico contribuisce a questa prestazione contestuale se, ad esempio, aiuta i colleghi a svolgere i loro mansioni, segue le regole e le procedure dell'azienda, se, ad esempio, rimane a lavorare anche al di fuori dell'orario lavorativo e così via. Comportamenti non formalmente richiesti dal proprio contratto. Tra le contextual performance ci sono, ecco, ci siamo arrivati, i nostri comportamenti di cittadinanza organizzativa. Possono essere definiti come comportamenti che supportano il contesto sociale e psicologico durante lo svolgimento delle task performance. Quindi, come vedete, c'è una forte commistione tra task e contextual. Quello che dicevano anche i relatori precedenti, l'accennava anche prima il professor Viale, la letteratura scientifica ha evidenziato come questi co-CB abbiano degli effetti positivi su tanti aspetti della vita organizzativa. Quali sono le dimensioni che accennava prima il professor Viale? Sostanzialmente ne esistono diverse, ma quelle su cui noi ci siamo focalizzati nella sperimentazione sono tre. Sono l'altruismo, che sono riferite a quei comportamenti che esprimono disponibilità aiutare i colleghi, alla virtù civica, che sono riferite a quei comportamenti invece che evidenziano un forte senso di responsabilità verso la propria organizzazione, e la coscienziosità, cioè quei comportamenti che indicano una particolare cura nello svolgimento del proprio lavoro. Un brevissimo inciso su quelli che possono essere, diciamo, gli OCB all'interno del settore pubblico, perché da qualche decennio si stanno iniziando a studiare anche questi comportamenti all'interno del settore pubblico. E sostanzialmente perché sono utili? Perché vanno a contribuire a, diciamo così, ad una migliore performance dei sistemi legati ai servizi erogati dal pubblico. Allora la cittadinanza organizzativa è un concetto fortemente legato agli obiettivi e alla visione di una pubblica amministrazione moderna. Perché? Perché in un qualche modo è come se i comportamenti di cittadinanza pubblica si riversassero in quello che il cittadino, l'utente finale, diciamo, può andare a raccogliere del lavoro svolto dal pubblico dipendente. Bene, vediamo le misure che abbiamo utilizzato a queste scale di misura. Sono sostanzialmente quattro. si dividono a seconda dei destinatari, dei rispondenti. Ci sono delle scale di misura che sono state utilizzate per misurare questi OCB esclusivamente nei dipendenti ed altre due invece esclusivamente sui dirigenti. Le prime due, la prima è l'Italian Version of Polsakoff Questionnaire. Polsakoff è uno dei principali esponenti, diciamo, a livello internazionale per lo studio dei comportamenti di cittadinanza organizzativa. E noi abbiamo utilizzato un questionario che è stato validato in Italia da Centero e colleghi, che si compone di 15 item. Gli item sono delle affermazioni a cui le persone devono, diciamo, valutare il proprio accordo o disaccordo e che misurano, appunto, le componenti della cittadinanza organizzativa che vi ho elencato poco anzi. Però poi, arrivato a un certo punto, come anticipavo la dottoressa Batani, si è reso necessario andare anche a, diciamo così, adattare le nostre misure a quello che erano, diciamo così, le contingenze, le richieste delle pubbliche amministrazioni. Allora, sulla base di questo, lo stesso questionario l'abbiamo adattato per fare cosa? Se nel primo questionario questi 15 item valutano una, diciamo, autopercezione, quindi in realtà io valuto quello che io penso di mettere in atto rispetto ai comportamenti di cittadinanza organizzativa, nella seconda versione del questionario abbiamo, chiediamo ai dipendenti di, diciamo così, esprimere una loro percezione su quello che erano gli OCB messi in atto dai colleghi. e questo è sicuramente stato molto interessante e importante perché non era più una misura in autopercezione ma in eteropercezione. Le altre due, invece, misure sono una, sempre vi ricordo, diretta, rivolta esclusivamente ai dirigenti, una per misurare la virtù civica, quindi qual era la percezione dei dirigenti della virtù civica che i loro collaboratori mettevano in atto, e poi c'è quest'ulteriore scala che si rifà al, diciamo, alla visione della pubblica amministrazione citata a Pocanzi che la c'è in gioriente del OCB. E questa, invece, è una scala a 9 item che misura, invece, quella che è la percezione dei dirigenti sui comportamenti di innovazione messi in atto dai dipendenti. Bene, questi sono, diciamo così, degli esempi, sicuramente chi ha risposto al questionario riconoscerà qualche item, per esempio per misurare l'altruismo si chiedeva alla persona di rispondere, aiuto chi ha molto lavoro da svolgere, e per esempio per la virtù civica credo che sia giusto guadagnarsi onestamente lo stipendio lavorando ogni giorno con impegno per misurare la virtù civica, e poi mi tengo aggiornato sui cambiamenti che avvengono nell'organizzazione per misurare la coscienziosità, e così via. Questo l'abbiamo fatto anche, come vi accennavo, per, diciamo, in una misura etero percepita, e poi c'è quella legata ai dirigenti per misurare questi comportamenti di innovazione. Chiudo dicendo solo una cosa. Prima il professor Viale ha accennato al fatto che ci sono dei modelli teorici che spiegano perché dei dipendenti mettono in atto comportamenti di cittadinanza organizzativa. E tra i modelli teorici, oltre a quelli che ha citato il professor Viale, c'è anche quello dello scambio sociale. Allora, rifacendoci a quello che diceva il presidente di Formas prima, cioè, diciamo, il fatto che un lavoratore percepisca che gli venga dato qualcosa, un'attenzione in particolare, può sicuramente essere la causa e determinare poi dei comportamenti di cittadinanza organizzativa. Grazie, grazie molto per l'attenzione. Grazie. Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Cucchiarini e è mio compito questa sera presentarvi molto brevemente i risultati della sperimentazione. È un compito un po' ostico, a dir vero sarà per voi anche un pochino noiosetto, ma prometto di essere molto breve, di focalizzarmi su alcuni aspetti principali che sono emersi, in particolare sull'efficacia o meno degli interventi comportamentali. Efficacia che verrà valutata al netto della pubblica amministrazione di appartenenza, quindi con dei dati aggregati, perché il nostro scopo non è comparare i risultati tra le amministrazioni, ma comparare i risultati all'interno di tutte le amministrazioni. Perché? Perché si parte da amministrazioni che hanno una cultura organizzativa differente, come abbiamo detto, che hanno dei problemi differenti, che hanno fatto degli sforzi differenti, ma non in grandezza, ma proprio differenti in natura. E quindi l'appartenenza alle singole amministrazioni da parte del campione è stata utilizzata come variabile di controllo. Ma quello che vedrete è sostanzialmente l'effetto e una valutazione dell'efficacia dei Nudge su quattro dimensioni specifiche. La prima dimensione, come diceva il professor Urbini, è quella sui OCB autoattribuiti, quindi rivolti verso se stessi. La seconda dimensione è sui OCB eteroattribuiti, rivolti verso i colleghi. Poi c'è una sezione specifica per quanto riguarda gli OCB diretti verso i dipendenti, quelli verso i propri dirigenti e coordinatori. E infine tutta la parte relativa all'identificazione organizzativa, l'equità, sforzo e ricompensa, il work engagement e la soddisfazione lavorativa. Tra il ventaglio di interventi comportamentali che sono stati proposti alle pubbliche amministrazioni, le nostre amministrazioni hanno sostanzialmente fatto ricadere la scelta accompagnati dal nostro supporto su due Nudge. Il primo è Call for Ideas, che offriva la possibilità ai dipendenti di inviare proposte e idee per migliorare e innovare un aspetto specifico della vita all'interno dell'organizzazione e la dimensione dell'OCB specificatamente coinvolta in questo Nudge era quella della virtù civica e il secondo intervento comportamentale era quello della condivisione di esperienze e competenze. Cioè stimolare i dipendenti a migliorare la comunicazione interna e favorire l'interscambio di conoscenze, know-how e interdisciplinarità a seconda dei bisogni dell'organizzazione. Le aree dell'OCB a cui fa riferimento questo tipo di intervento è quello dell'altruismo e della virtù civica. Quindi, come avete già avuto modo di intuire, abbiamo fatto una rilevazione ex-ante dalla quale abbiamo ricavato una baseline e tra l'altro ci dà un po' l'idea di quello che è lo stato di salute degli OCB all'interno delle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni coinvolte. A seguito dell'intervento comportamentale è stata fatta una rilevazione ex-post dalla quale poi è venuto fuori tutta una serie di analisi di tipo trasversali tra chi ha partecipato e chi non ha partecipato alla sperimentazione. E poi, in ultima analisi, abbiamo anche fatto delle analisi difference in difference che significa semplicemente comparare i risultati di coloro che hanno partecipato ad entrambe le rilevazioni sia prima che dopo. Per quanto riguarda i risultati della rilevazione ex-ante, i partecipanti sono oltre 2.800, quindi una numerosità campionaria molto elevata per metà maschi e femmine e il campione per la maggior parte è costituito da un'unità superiore ai 50 anni, la loro anzianità organizzativa media, quindi gli anni passati nella stessa PA, è sui 20 anni circa e tra questi chi si occupa di coordinamento o ha una posizione dirigenziale è circa il 17% del campione. Qua, come potete vedere, ci troviamo di fronte al perfetto esempio di overconfidence che tocca a tutti noi. Tutti diciamo che noi siamo bravissimi, mettiamo in atto dei comportamenti di cittadinanza organizzativa ai massimi livelli, poi però nei colleghi non troviamo così alti livelli di comportamenti di cittadinanza organizzativa. a partire dalle scale che vi ha fatto vedere il professor Urbini, qua troviamo delle scale che vanno da 0 a 10, le abbiamo semplicemente traslate per avere una valutazione di impatto un pochino più comprensibile, però sostanzialmente possiamo vedere come le amministrazioni convolte non sono messe così male nella valutazione degli OCB, a parte rispetto a quelli autoattribuiti, ma anche eteroattribuiti, si attestano circa tra 6 e 7 punti su 10. Stessa cosa per quanto riguarda gli OCB rivolti dipendenti, un po' più bassi, change oriented OCB che erano quelli relativi all'innovazione e gli OCB per i supervisori che comunque si attestano a quasi 7 punti su 10, più bassa delle altre la variabile equità, sforzo e ricompensa. Una cosa che è emersa è chiaramente l'identificazione organizzativa cresce in maniera lineare a crescere dell'anzianità organizzativa. Un'altra cosa è emersa rispetto all'anzianità organizzativa che secondo noi è molto interessante, forse sarebbe il caso di approfondire ulteriormente con altre analisi e anche altre ricerche, perché a partire dai 10 anni di anzianità organizzativa si assiste ad un crollo degli OCB attribuiti ai colleghi. Quindi è come se dopo i 10 anni di anzianità organizzativa ci si sentisse un po' soli. E la stessa cosa accade per quanto riguarda gli OCB dipendenti. Questo crollo viene visto, viene osservato anche dai dirigenti e dai coordinatori nei confronti dei propri dipendenti. Invece gli OCB supervisori, mi spiace dirvi che hanno un decremento costante a partire dai 10 anni in poi. Adesso arriviamo ai risultati della rilevazione ex post, quindi solo coloro che hanno risposto alla seconda rilevazione, che sono 1266, le variabili rimangono costanti rispetto alla prima rilevazione, non ve le ripeto, però sono praticamente le stesse. Di questi 657 conoscono il progetto, quindi rientrano nel cosiddetto gruppo sperimentale, 604 nel gruppo che abbiamo chiamato di controllo, e coloro che ricoprono una posizione dirigenziale in questo caso sono 267, dei quali 120 non conoscono il progetto. Qua potete osservare dei grafici, ne osserverete parecchi, mi rincresce però andrò molto veloce, in cui potete vedere le medie di chi conosce o non conosce il progetto, quindi gruppo sperimentale, gruppo di controllo, e le linee che vedete si riferiscono quella blu alla media della rilevazione ex post, quella gialla alla media della rilevazione ex ante. La comparazione non è statisticamente possibile, però ci dà un po' un'idea di come potrebbero essere andate le cose. Qua possiamo vedere che per quanto riguarda gli OCB totali autoattribuiti ed eteroattribuiti troviamo delle differenze sostanziali tra il gruppo di controllo e il gruppo sperimentale, in tutte le dimensioni, per quanto riguarda gli autoattribuiti soprattutto nella coscienziosità, invece per quanto riguarda gli eteroattribuiti soprattutto per l'altruismo e la virtù civica, e anche in OCB supervisori, quindi gli OCB che i dipendenti vedono nei propri supervisori. Per quanto riguarda le altre variabili di riferimento, quello che appare subito di preoccupante, potrebbe essere potenzialmente preoccupante, è che l'equità sforzo e ricompensa nel gruppo sperimentale è più basso che nel gruppo di controllo. Questo ci ha fatto un po' suonare un campanellino d'allarme, però vediamo cosa succede con le analisi difference in difference. Come vi dicevo, sono quelle analisi che hanno coinvolto solo coloro che hanno partecipato ad entrambe le rilevazioni, quindi sono meno, sono 377, di questi 241 conoscono il progetto, 136 non lo conoscono, quelli che sono in una posizione dirigenziale o di coordinamento in questo caso sono molto meno, sono 65, 43 che conoscono il progetto e 22 che non lo conoscono. Andiamo a vedere che per quanto riguarda gli OCB autoattribuiti, che vi ricordate erano molto molto alti nella rilevazione anche pre-intervento, non abbiamo effettivamente dei risultati statisticamente significativi, troviamo però che gli OCB autoattribuiti, per quanto riguarda la dimensione specifica dell'altruismo, migliorano in maniera significativa solo per il gruppo che ha oltre 30 anni di anzianità organizzativa. Quindi per chi è più anziano lavorativamente, l'intervento ha migliorato la propria percezione dell'altruismo. Per quanto riguarda invece gli OCB eteroattribuiti, possiamo vedere come essi crescono a seguito degli interventi comportamentali e a causa degli interventi comportamentali e in particolare nelle due dimensioni che erano coinvolte, vi ricordate all'inizio, come OCB precisamente coinvolti negli interventi comportamentali scelti, di altruismo e virtù civica. Quindi a prescindere dalla conoscenza o meno del progetto, da prima del trattamento a dopo, i dipendenti riconoscono che negli altri è aumentato sia l'altruismo che la virtù civica. Non emergono differenze in OCB dipendenti, nei change oriented OCB, però vi ricordate che i coordinatori dirigenti sono molto meno in questa rilevazione, in questa analisi. Tuttavia, gli OCB dipendenti sono più bassi e ritorniamo sempre ai risultati che abbiamo trovato all'inizio, quando si va a selezionare l'anzianità organizzativa che va dai 10 ai 20 anni, quindi si assiste ancora a quel crollo che vi dicevo a seguito dei 10 anni di anzianità. Aumenta anche la percezione dei dipendenti rispetto agli stimoli che ricevono dal proprio superiore a svolgere meglio il proprio lavoro. Quindi, in definitiva, i risultati mostrano dei effetti complessivamente positivi degli interventi e le analisi trasversali hanno evidenziato che coloro che sono a conoscenza del progetto sperimentano livelli più alti di OCB in tutte le dimensioni, anche quelle autoattribuite che eteroattribuite. E le analisi difference in difference confermano l'influenza degli interventi negli OCB eteroattribuiti, in particolare sulle due dimensioni focus degli interventi svolti. E in questo caso non si assiste a una differenza tra chi conosce il progetto e chi non lo conosce, secondo noi, sottolineando in questo caso un genuino aumento nell'ambiente lavorativo degli OCB eteroattribuiti. È possibile, invece, escludere un forte effetto di appesantimento delle mansioni lavorative perché nelle analisi difference in difference la differenza nell'equità, sforzo o ricompensa non è emersa significativa. Quindi, anche se quel campanello d'allarme poteva essere abbastanza preoccupante per un appesantimento dei compiti, in realtà questo non è stato poi confermato nelle analisi successive, quelle più in profondità. Tuttavia, è possibile, comunque, e alcune organizzazioni, alcune pubbliche amministrazioni in autonomia l'hanno già fatto, aggiungere dei nudge a seguito degli interventi come feedback e ringraziamenti che possono curare questa dimensione equità, sforzo o ricompensa e poi di fornire continuità agli interventi fatti per apprezzare anche gli effetti a lungo termine. Poi, però, come vedremo, sono con nostra molta soddisfazione, sono emersi anche degli spin-off a seguito dei primi interventi comportamentali, quindi con grande entusiasmo lascio la parola al professor Pietroni che ci spiegherà meglio. Grazie, grazie, Veronica. Io prontamente a questo punto invito qua alla tavola rotonda i protagonisti, non ho parlato di amministrazioni coinvolte nel progetto finora, abbiamo la possibilità dalla loro viva voce e esperienza di sentire dei commenti sulla loro esperienza con l'obiettivo effettivamente di contaminazione. Quindi inviterei il dottor Ansanelli a raggiungersi, il dottor Coppola per la gestione dell'entrata, il dottor Ansanelli per Enea, mentre abbiamo online il dottor De Angelis per l'Agenzia Spaziale Italiana. Ci sei? Ecco, Massimo, perfetto. Sì, salve, ciao. Eccoci. Allora, è affascinante sostanzialmente vedere come questa esperienza sia in realtà una forma di meta esperienza, perché è già OCB la partecipazione attiva a questa esperienza, perché c'è un po' un bias di selezione. Già le PA che dimostrano quell'approccio così illuminato, intraprendente, proattivo nel lasciarsi coinvolgere con i gruppi di lavoro in questa esperienza, già dimostrano la forza vera dell'OCB, ovvero questo fare qualcosa di non prescritto, di apparentemente superfluo, non c'è nulla di più importante che una buona cosa superflua alle volte, ma poi abbiamo visto le implicazioni da un punto di vista comportamentale, attitudinale che fanno la differenza. E un altro aspetto meta è quello che accennava Veronica, ovvero come degli interventi sui NAG possono attivare la voglia, come l'effetto ciliegia una tira l'altra, a inventarsi in maniera autonoma e proattiva dei NAG per le organizzazioni. Quindi passerei la parola immediatamente al dottor Anzanelli rispetto a come è andata l'implementazione e eventuali criticità, notate, nel momento in cui abbiamo, mi sembra con numeri molto importanti coinvolti i collaboratori in questo progetto sugli OCB. Certo, io porto l'esperienza di un ente di ricerca in cui tipicamente il nostro personale è già animato da una curiosità di suo, perché evidentemente è quello che è il motore della ricerca. Per cui ci siamo fatti coinvolgere con molto piacere in questa iniziativa del Dipartimento, anche perché ne abbiamo colto la vantaggiosità per l'amministrazione, in termini di costi benefici, in fondo implementare un NAG a dei costi bassissimi dal punto di vista dell'organizzazione, salvo l'impegno del nostro personale. intervento e avevamo delle criticità per le quali noi abbiamo poi scelto soltanto alcune tipologie di intervento, quindi abbiamo, e questo è stato un altro elemento molto positivo dell'esperienza, cioè la possibilità di customizzarla sull'organizzazione, di questo ringrazio ovviamente tutto il gruppo che ci ha sopportato, poi ovviamente poterlo fare in maniera guidata è stato il vantaggio sicuramente di sotto questo. Le criticità che avevamo era quello di, che poi emergono anche dalla ricognizione che è stata fatta sul personale attraverso i questionari, era quella del nostro personale di essere riconosciuto dall'organizzazione in cui lavorava. Questo è l'elemento fondamentale di criticità che noi abbiamo colto attraverso questa esperienza e quindi necessariamente ci siamo orientati su quel naggia che permetteva al personale di far conoscere al resto del personale quello che faceva, anche in funzione di un altro obiettivo che era quello di migliorare le relazioni all'interno dei gruppi, dei diversi gruppi di ricerca, ma anche delle diverse tipologie. È stato detto, come è stato detto prima dalla dottoressa Svetani, noi abbiamo una, diciamo una, non la chiamerei una contrapposizione tra personale core e personale invece che fa supporto alla ricerca, ma indubbiamente si parla a linguaggi diversi e quindi la percezione delle funzioni di staff come funzioni con un approccio di tipo burocratico, quasi di ostacolo alla libertà e all'autonomia della ricerca è una storia lunga che trova poi anche una sua consacrazione, se vogliamo, in quello che è il contratto collettivo della ricerca, si insancisce questa dicotomia. Questa esperienza è servita invece a migliorare la percezione del lavoro di entrambe queste componenti e a farle interagire in maniera concreta e anche a creare degli sviluppi futuri, cioè superata la prima fase in cui i nostri ricercatori forse non avevano compreso esattamente lo scopo dell'iniziativa e quindi l'hanno vissuta in maniera un po' autoreferenziale, come una vetrina in cui esporsi, invece poi hanno colto esattamente qual è il senso dell'iniziativa e quindi l'obiettivo che noi abbiamo adesso come amministrazione è di creare delle occasioni permanenti di confronto, una metodologia e dei luoghi di confronto permanente rispetto a questo incontro e contaminazione, direi, tra approcci al lavoro e esperienze diverse. E poi c'è questo elemento fondamentale per enti come il nostro che hanno difficoltà di bilancio, di implementare esperienze di team building con meravigliose società di consulenza che possono accompagnarci, tutto questo, noi possiamo in questo modo e lo abbiamo fatto anche introdurre dei piccoli spin off, uno spin off è tipicamente copiare uno dei nagge che non abbiamo fatto, nel senso introdurre un elemento di ringraziamento rispetto al lavoro delle persone con cui si collabora, quotidiano e sistematico, che stiamo facendo all'interno della direzione del personale, immaginando di replicarlo in maniera massiva all'interno di tutta la nostra agenzia, è un tentativo empirico gestito ovviamente da chi ha seguito e che qui ringrazio tutto il gruppo Enea che si è con entusiasmo buttato in questa avventura, non vorrei far nomi per non dimenticare nessuno, però li ringrazio tutti qui perché hanno dedicato tempo e risorse personali a questa iniziativa, ecco loro stessi hanno avviato dei percorsi di spin off sperimentali, ma noi siamo sempre pronti a tutti gli stimoli che ci dovessero arrivare dal gruppo e dalla funzione del Dipartimento perché ne vediamo ovviamente i vantaggi, ne abbiamo misurato i vantaggi, grazie. Grazie Don Sanelli, è sicuramente affascinante vedere come poi si innescano questi virtuosismi di creatività poi organizzativa interna una volta avviato il processo, soprattutto osservato una componente che è un po' trasversale ai discorsi che abbiamo fatto oggi, che tante volte less is more, non è necessario appunto il grande intervento di consulenza o di trasformazione organizzativa, ma alle volte piccoli comportamenti portati avanti in maniera responsabile, autonoma e con un senso anche di iniziativa interna, quindi questa componente è cruciale, possono fare delle differenze significative, poi in particolare la letteratura ci dimostra che l'idea del ringraziare fa bene a chi riceve il ringraziamento, ma fa bene anche a chi lo performa, quindi si crea proprio un clima di gratitudine benefico per entrambi i poli della relazione. Mentre con l'agenzia delle entrate abbiamo lavorato su il primo Nudge che avevamo inizialmente pensato, ovvero quello che può diventare anche questo un metanaggio, ovvero la proposta di suggerimenti, di idee utili a dare voice e a promuovere iniziative per il benessere e per l'efficacia organizzativa. Com'è andata, dottor Coppola? Allora, intanto non troppo differenti dall'esperienza che avete appena sentito, cioè il focus è sempre stato su questi elementi, l'attenzione alla persona e il cluster relazionale e in particolare la relazione tra di noi, al nostro interno, tra noi colleghi. Siamo tornati dal periodo della pandemia, della forzata permanenza fuori dalla sede di lavoro, ciascuna e ciascuno con un bagaglio di difficoltà e c'era da smontare innanzitutto questo, è quello che agognavamo durante la pandemia, cioè il contatto, la relazione, una volta rientrati è diventato il problema, nel senso che ci siamo disabituati a quella quotidianità e quindi abbiamo lavorato innanzitutto su questo. Ciascuna e ciascuno di noi aveva registrato un problema, un approccio problematico e ognuno aveva ragione, quando ciascuno ha un problema, il problema è il proprio che quello a livello di comunità e l'abbiamo cercato invece di trasferire in una cosa in comune. Filone diceva, si gentile perché ogni persona che incontri sta combattendo una grande battaglia, là tutti noi avevamo un grande problema e abbiamo cominciato a impostarlo proprio sulla gentilezza, la gentilezza che derivava dal rapporto tra di noi, anche nel linguaggio, anzi soprattutto a cominciare dal linguaggio, perché è stato uno degli elementi che è venuto fuori dal naggio che abbiamo utilizzato e come una delle iniziative che sono emersi dopo questa esperienza fatta insieme al TAC è stata la nascita di un gruppo voluto dalla mia direttrice di risorse umane che si chiama Gentilverso, che è composto da dieci psicologhe del lavoro, tutte donne, che appartengono principalmente all'ufficio che guido io, ma anche da altre strutture e anche da altre regioni e che hanno lo scopo appunto di portare avanti questo concetto di gentilezza nella relazione tra di noi come cultura, come elemento culturale innanzitutto, attraverso pubblicazioni sull'intranet oppure organizzazioni di eventi a tema con personalità di spicco, abbiamo appena iniziato e alla fine dell'anno scorso, nel secondo semestre dell'anno scorso che abbiamo cominciato questa, appena finito il lavoro con il TAC, insomma dai risultati dell'accolto AIDS. L'altro aspetto, oltre a quello relazionale, anche per noi è stato quello motivazionale e cioè l'attenzione alla persona, il riconoscimento della persona ma anche del proprio lavoro. Noi valutiamo la prestazione da tanti anni, abbiamo cominciato nel 2008, ancora prima il decreto del 2009 che ha disegnato il ciclo della performance, che per noi ci ha aiutato, non era diverso da quello che stavamo facendo, cioè un anno prima avevamo pensato senza conoscere chi ha scritto quel decreto, avevamo pensato le stesse cose, cioè abbiamo organizzato il ciclo della performance, proprio in quel modo lì, con i quattro step previsti poi dal cosiddetto decreto Brunetto, e cioè assegnazione di obiettivi, feedback, valutazione e rendi computazione. Quindi siamo stati aiutati da questo. Valutiamo da tanto tempo e quindi abbiamo tanti dati a disposizione. Quando abbiamo avuto una mole significativa di dati abbiamo cercato di esplorare la motivazione che sosteneva i best performance, cioè le persone che con continuità mantenevano un livello di prestazione elevato. Una, forse troppo, una delle prime risposte che può venire in mente da questo punto di vista è la leva economica. Ho fatto un calcolo, sono andato a vedere, a cercare di concretizzare in che cosa consisteva dal punto di vista della retribuzione di risultato, cioè quella legata alla performance, numericamente questo è venuto fuori circa 300 euro netti. Non so come la pensate voi, secondo me non è una cifra in grado di spostare decisioni importanti. Quindi abbiamo insistito nella ricerca e alla fine abbiamo scoperto che la motivazione di queste persone era sostenuta dall'allineamento dei valori con quelli dell'organizzazione. Quando trovavamo questa situazione noi registravamo sistematicamente con continuità elevate prestazioni. E quindi questo significa un lavoro diverso. Lo accennava prima Sveva Batani, abbiamo cominciato a lavorare, e questo è il risultato ulteriore, sugli incentivi non economici. Quindi cercare di spostare l'attenzione su questa leva che ha una potenza micidiale, mi sono accorto dai primi passi che stiamo facendo. Ascoltavo poi con interesse l'intervento del professor Simoni poco fa, perché si tratta anche quella di una esperienza che abbiamo appena fatto, sempre nella seconda metà dell'anno scorso, in collaborazione con la SDA Bocconi, abbiamo fatto una ricerca al nostro interno basata proprio sul lavoro di Canemar, sul libro Nox, a cui hanno partecipato una parte dei dirigenti, della nostra classe dirigente, dei nostri dirigenti, ma anche funzionari non dirigenti che comunque hanno ruoli di coordinamento. Questo perché lo abbiamo concentrato su due processi, la selezione e la valutazione. La selezione perché abbiamo registrato che pur lavorando con gli stessi strumenti e in situazioni simili tra loro si arrivava a decisioni differenti. Lato valutazione invece, il professor Simoni ha citato l'esempio in ambito sanitario che è ripreso proprio dal libro di Canemar, in cui il problema del noise è stato risolto introducendo strutturate linee guida, ha fatto precipitare sensibilmente la presenza di rumori. Noi abbiamo l'equivalente delle linee guida, i nostri dizionari delle competenze, abbiamo i dizionari di competenze del personale dirigente, per il personale dirigente, per tutti i sistemi di valutazione che adottiamo. Li aggiorniamo costantemente, quindi direi che a livello di linee guida strutturate stiamo messi bene e nonostante ciò c'è presenza di rumori. Quindi è per questo che abbiamo focalizzato l'attenzione anche sulla parte valutazione. Come è andata a finire ancora non lo so, perché tra qualche settimana avremo i risultati da parte dell'Asda Bocconi. Però mi hanno già accennato qualche risultato abbastanza interessante che ci aiuterà a risolvere questi due aspetti. Quindi queste sono le principali iniziative che sono seguite anche alla collaborazione con il TAC. Questa sorta di spin-off, insomma, queste ricadute. Mi piace l'accenno che poi ricopre, quindi ne approfitto per fare la carellata dei TAC, che via via, sì, dei naggi che abbiamo proposto con il TAC, l'importanza del riconoscimento simbolico, estremamente importante. Ci sono studi in letteratura che hanno provato a quantificarlo, anche in maniera un po' bizzarra. Se vogliamo hanno quantificato che un SMS di apprezzamento da parte di un superiore equivale a un buono per una pizza di 30 euro. Mi hanno dato un valore proprio del semplice SMS al netto poi di un incontro di feedback di istituzione. Per cui uno dei naggi che erano proposti era anche un reminder per ricordare di farlo spesso perché tante volte, presi con le emergenze, con le sfide, con l'incazzare degli obiettivi quotidiani, spesso si può dimenticare qualche collaboratore rispetto al riconoscimento, semplicemente un contatto, un sapere come sta procedendo. Rispetto a Siboni, quindi passerei la parola a Dottor De Angelis perché Siboni ha parlato di un certo punto di strumento di decisioni aggregate, ovvero di gestione più illuminata delle riunioni in maniera tale che non diventino però poi fondamentalmente sede di influenza, persuasione, discussione, iperproblematizzazione, quindi un'aggregazione diciamo più funzionale. e i nasi, oltre al Call for Ideas, sono dedicati proprio a degli strumenti per rendere più efficace il processo della riunione, dell'incontro. Massimo, vorrei raccontarci il Dottor De Angelis. Salve, mi sentite? Sì, mi sentiamo. Scusate se non sono in presenza, ma purtroppo è contrattempo. Poi veramente bella iniziativa questo progetto in generale. Io spero che possa continuare perché stavo riflettendo, veramente una piccola mia considerazione che visto la complessità e la frequenza di certi eventi che impattono sui comportamenti, considerato che il comportamento è come la comunicazione, qualcosa che è inevitabile, visto che comunque il comportamento può essere generatore di driver, di performance, secondo me uno studio, un'analisi sulla consapevolezza, sull'architettura delle decisioni è fondamentale in ogni organizzazione e quindi nel pubblico ben vengano iniziative come queste. Quindi mi auguro veramente che ci sia un seguito a questo progetto. Fatto questa piccola mia considerazione, sul progetto OCB l'Asis è concentrata su due nudge. Un nudge era relativo al one hour meeting e l'altro era sui call for ideas. Per quanto riguarda il one hour meeting l'idea era praticamente cercare di contenere il tempo delle riunioni, non quelle contrattuali, gruppi di lavoro, riunioni insomma dove si parlava di organizzazione. In che modo? Abbiamo presentato questa iniziativa a due gruppi di persone, di colleghi ASI. Dalla parte c'erano i collaboratori e dall'altra c'erano i responsabili di unità. Poi vi spiego perché i due gruppi separati è stato un esperimento o un esperimento, perché poi ci siamo divertiti comunque. E a questi gruppi abbiamo chiesto di individuare durante le riunioni, di indicare il miglior coordinatore, perché qual era il parametro? Il parametro principale era il contenimento dei tempi delle riunioni. Lo indicavano attraverso una piattaforma che abbiamo sviluppato, indicavano il nome, ma non solo il nome, indicavano anche il perché indicavano quel nominativo. In questo modo, alla fine, quello che abbiamo ottenuto è anche un vademecum delle buone regole per gestire una riunione, che è quindi un qualcosa che però è venuto dal basso verso l'alto. E sarà divertente perché su questo ringrazio Davide perché mi ricordo che ci ha aiutati nel presentare l'iniziativa, entrambe le iniziative, il Club for Ideas e anche il One Hour Meeting, ai due gruppi di lavoro. Ad un gruppo l'abbiamo presentato, non so se ti ricordi Davide, ti chiesi delle immagini a un certo punto. I frame, i frame. Esatto, volevo vedere se c'era un'influenza sul frame. Ad un gruppo di lavoro abbiamo presentato l'iniziativa evidenziando i vantaggi e con delle immagini collegate a qualcosa di positivo. A un altro gruppo di lavoro invece abbiamo presentato entrambe le iniziative lavorando sulla perdita, sul rischio di non riuscire in queste iniziative. Quindi abbiamo, non so se volete, c'ho le immagini che abbiamo presentate. Non so, in una per esempio abbiamo presentato le mani schiacciate sotto un libro, lo stress del tempo durante le riunioni, chi si addormenta. Quindi qualcosa che invogliasse. Adesso, purtroppo non abbiamo potuto evidenziare delle differenze tra i due gruppi. Un po' perché i gruppi erano composti da persone che hanno voluto partecipare e quindi immagino che c'era un interesse a partecipare. Doveva essere fatto a tutta l'asi in modo coercitivo, allora forse avremmo avuto qualche evidenza, qualche cosa per capire se era rispettato il teorema dell'avversione alla perdita. Quindi il discorso di essere più avversi alla perdita che agli aspetti positivi. E' stata un'iniziativa molto interessante che ha portato a individuare due migliori coordinatori, ma soprattutto a individuare un matemegum delle buone regole per gestire una riunione. Poi l'altro invece, Call for Ideas, è stata un'iniziativa che non ha, in realtà abbiamo avuto delle proposte, ma non hanno generato un progetto perché non hanno superato un'analisi di fattibilità. Tra l'altro per questa Call for Ideas avevamo anche allocato un piccolo budget. Però, mettendo a fattore comune le diverse iniziative, abbiamo sviluppato noi un progetto in direzione generale che si chiama Space Knowledge Management, che è un progetto per la rilevazione, conservazione e patrimonializzazione della conoscenza, che oggi è diventato un vero processo, sta avendo un grande seguito e tutti ne ho assunti. sono molto felici di partecipare a questo progetto dove ne ho assunti, vanno in aula, c'è un dibattito con le persone che sono andate o stanno andando in pensione. Queste interviste, questi colloqui, queste piccole sessioni sono anche videoregistrate, perché poi l'idea è creare un database, una sorta di wikiasi, per materializzare la conoscenza specifica che un ente come l'Agenzia Spaziale genera, che è molto sui generis. Bene, bene, grazie dottor De Angelis. In effetti, a proposito della snellezza degli interventi per rendere le riunioni più efficaci o meno a rischio di poi prendere rive troppo, diciamo, da talk show, banalmente, che stavo osservando anche qua in questa bellissima stanza in cui siamo a sviluppare questo dibattito, per rendere evidente un orologio, perché noi ormai siamo tutti con il device, però giustamente per educazione lo teniamo nascosto e perdiamo la consapevolezza dello scandire del tempo, quindi è cosa che adesso ricompendiamo velocemente arrivandoci alle conclusioni. Chiuderei con una riflessione, a questo punto, sull'ultima proposta nel trainage che avevamo messo sul tavolo con i vari gruppi di lavoro, che era effettivamente un po' complicata da implementare sotto pandemia o post-pandemia, però che in modo naturale ho saputo, confrontandoci, che Enea aveva già cominciato ad avviare, che è l'impatto motivazionale che si ha verso la propria pubblica amministrazione quando i propri funzionari hanno l'occasione di raccontarsi alle scuole. Quindi piccole pillole, magari di pochi minuti, che permettono magari nel contesto dell'educazione civica, in quelle ore, a raccontare come si contribuisce al benessere del sistema paese grazie alle proprie attività, alle proprie iniziative. Io concluderei con questo messaggio, visto che è next generation, rispetto a un agio naturale che unente ho scoperto che già aveva spontaneamente applicato da tempo e qui chiaramente lo prendiamo come tesoro anche per il nostro repertorio. Vuoi raccontarci in maniera estremamente... Brevissimamente Enea ha sempre lavorato nelle scuole. Negli anni 2000 esisteva un progetto Enea per la scuola, in cui i nostri ricercatori andavano a parlare nelle scuole secondarie superiori per i ragazzi, ovviamente per stimolare la passione verso le materie STEM, tema molto sensibile in questo momento. Ma di recente, come sono alcuni anni già che succede, i nostri ricercatori che fanno il viaggio sulla nave oceanografica a Laura Bassi, che poi arriva in Antartide, verso la nostra base, fanno un collegamento per loro serale, quindi perdono le loro ore di sonno, diciamo, con le scuole secondarie di primo e secondo grado. E questo crea dei piccoli cortocircuiti, perché per esempio io ho saputo da mia figlia che lei aveva fatto il collegamento con la Laura Bassi, col collega Scipinotti, che è un giovane brillante ricercatore, ovviamente non ne avevo notizia prima, però è un'iniziativa di divulgazione molto importante per far comprendere ai nostri ragazzi cosa significa fare ricerca pubblica. In questo senso abbiamo anche editato recentemente un video che potete trovare sul nostro sito, per la festa delle donne, per l'8 marzo, faccio una piccola pubblicità, in cui una nostra ricercatrice di oltre 80 anni ha raccontato la sua esperienza in Enea, in Antartide, con un video che veramente vi consiglio di vedere, proprio per la divulgazione scientifica a favore dei ragazzi, per capire che cos'è la ricerca pubblica e che valore ha. Bene, anche l'Agenzia delle Entrate non manca di questa iniziativa, sono convinto anche l'ASI, ma concluderà a questo punto con l'Agenzia. Anche noi, appena nata dal 2000, l'Agenzia ha un'iniziativa, certo il tema è meno avventuroso di quello appena sentito, che si chiama Fisco e Scuola, e quindi è dedicato anche a una parte del lavoro che facciamo, cioè il nostro lavoro core, l'attività nostra core, che è quella di assistenza al contribuente e di contrasto alle erasioni. Però, partendo dal dettato costituzionale, con i ragazzi nelle scuole, c'è questa iniziativa da sempre, che si fa tutti gli anni, ogni direzione regionale nostra sul territorio organizza periodicamente incontri con scuole elementari e medie. Molto bene, anche qua le scienze comportamentali danno dei risultati affascinanti, apparentemente bizzarri e controintuitivi, fa bene chiaramente alle scuole per aumentare la cultura, il senso civico dei ragazzi, ma fa molto bene anche al dipendente pubblico a partecipare, essere coinvolti in queste iniziative, perché funziona appunto da riattivatore motivazionale, prendere contatto e rendersi conto, raccontandosi ai giovani il valore del proprio contributo, del proprio lavoro. Bene, io ringrazierei a questo punto le amministrazioni, passerei al Formez, alla dottoressa Migliore, per le conclusioni finali. Grazie. Grazie Davide, io non vi porto via molto tempo, perché abbiamo anche un po' sforato, ma credo che ne sia valsa la pena, perché gli interventi che ci sono stati, sono stati di grande spessore. Mi concentro, diciamo, soltanto su delle conclusioni relative proprio al racconto e alla narrazione delle esperienze, delle amministrazioni, perché in realtà abbiamo, diciamo, affrontato forse, diciamo, per la prima volta in maniera così approfondita questo tema, il tema del, diciamo, del Nudge e della cittadinanza organizzativa, anche da un punto di vista scientifico, con appunto grandi, con contributi di grande valore, però abbiamo portato anche delle esperienze, che dimostrano che, intanto, anche nella pubblica amministrazione si può fare, forse ancora di più nella pubblica amministrazione, dove le risorse sono comunque, soprattutto quelle economiche, sono comunque molto limitate. Abbiamo avuto testimonianza del fatto che interventi, anche molto, diciamo, semplici e sicuramente poco costosi, possono intervenire sui livelli di motivazione e sui livelli di cittadinanza organizzativa del personale pubblico. Quindi, diciamo, un tema nuovo di frontiera che però, diciamo, può essere applicato anche nelle pubbliche amministrazioni. Che cosa bisognerebbe fare? Intanto un po' uscire fuori dagli schemi, uscire dallo schema tradizionale, dalla cultura tradizionale, che la valorizzazione della performance debba necessariamente passare attraverso la retribuzione di risultato, perché, appunto, invece può passare anche attraverso forme di riconoscimento non monetario che valorizzino e motivino il personale. Perché questo sia possibile, probabilmente bisogna intervenire un po' sulla cultura organizzativa, ma molto anche, diciamo, sulla sensibilità, sulla competenza, non solo del vertice delle amministrazioni, ma anche e soprattutto del middle management. Perché comprendere le potenzialità di questi strumenti è una questione sicuramente di competenze e anche un po' di visione, no? Di guardare a che cosa possono offrire strumenti e metodologie di questo tipo e quindi anche un po' ad una visione futura, ulteriore di sviluppo. Abbiamo visto con le amministrazioni che hanno rappresentato i loro casi che tutte hanno colto quest'opportunità e quindi hanno utilizzato questa sperimentazione per ragionare anche in termini evolutivi. Quindi questo sicuramente è un altro, diciamo, aspetto, un aspetto importante da cui evidentemente passano, no? Queste competenze è anche la cultura della misurazione all'interno delle organizzazioni e quindi una cultura della misurazione della performance. Mi fermo qui dicendo che ovviamente il TAC è un team attivo permanente quindi diciamo noi come Formez diamo tutto il supporto al team ma è chiaro che il team lavora e diciamo opera anche sulla base delle richieste delle amministrazioni e quindi qui faccio un po' diciamo di pubblicità progresso lasciatemi passare il termine perché chi fosse interessato ad avviare sperimentazioni di questo tipo può semplicemente mandare una mail all'indirizzo tac.italia chiocciolagoverno.it e con il Dipartimento della Funzione Pubblica proveremo a raccogliere le domande e le istanze anche per ragionare insieme su un nuovo possibile progetto per il futuro. Vi ringraziamo tutti io ringrazio ovviamente tutti i relatori ma in particolare il team di analisi comportamentale il professor Viale e grazie di essere stati con noi numerosi per tutte queste per tutte queste ore la dimostrazione che evidentemente quello di cui vi abbiamo parlato era di valore e grazie ancora e buon pomeriggio a tutti grazie mille grazie arrivederci 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 grazie Claudia un grande ringraziamento per il tuo sostegno in questi tre anni all'attività che appunto senza te Scriva sarebbe stato difficile raggiungere grazie grazie a tutti arrivederci arrivederci va bene allora chiudiamo anche noi l'incontro in presenza vi ringrazio tutti per averci ascoltato e essere rimasti anche più del previsto in una sola parola grazie ancora grazie grazie a tutti